Buongiorno a tutti, grazie per chi ci ha raggiunti da fuori Torino e grazie agli amici e colleghi torinesi che sono venuti con noi a celebrare questo grande maestro. Io inizio con questo incipit, è un po' difficile innanzitutto perché è ancora mattina presto e poi perché non c'è abbastanza caffè, di caffè in realtà non ne avete proprio trovato, questa è una citazione di Massimo Castri e l'incipit del suo intervento ad un convegno a Cagliari il teatro che vorrei, che poi credo verrà citato anche nella tavola rotonda nel panel di domani e ci serve per ricordare soprattutto i contenuti di questo intervento quanto Castri fosse un grandissimo artista ma fosse un intellettuale che nella sua vita portò avanti un ragionamento a 360 gradi sulla funzione del teatro stabile pubblico, sulla stabilità pubblica rispetto alla dimensione estetica, rispetto all'impatto sociale e rispetto anche all'uso degli spazi e dei luoghi. E a proposito di spazi e di luoghi, forse è superfuo ricordare a voi tutti che proprio questo teatro dopo più di 15 anni di chiusura con un annoso restauro venne inaugurato con un bellissimo pirandello da Castri che qui a Torino ebbe un rapporto meraviglioso con la comunità teatrale nel corso di tantissimi anni, di decenni e parlando di spazi frequentò tantissimi spazi perché ovviamente il Carignano fu il luogo di lezione delle sue grandi produzioni però Castri, come ricordate, oltre al rinnovato Gobetti inaugurò anche un teatro Astra che era ancora un cantiere il suo Borgman, il segno più importante della sua direzione pitolinese, nacque al Teatro Nuovo e poi addirittura, insomma, nell'anno in cui restaurammo il teatro Carignano venne ospitato al Teatro Grande Valdocco con le tre sorelle, quindi insomma, viva i salesiani che accanto alle chiese costruivano i teatri. È bello ricordare Massimo Castri in questa circostanza che torna a Torino non con i suoi spettacoli, non con la sua azione di direttore e di operatore ma con la memoria del suo lavoro. Come sapete Castri ha avuto, come ho detto prima, un rapporto meraviglioso con la comunità teatrale torinese e benché lui avesse una sorta di idiosincrasia per il teatro di giro, insomma, meno male che le sue produzioni in quegli anni giravano se no, insomma, avremmo privato il nostro pubblico di tali capolavori, però Castri non ebbe buoni rapporti con la città sul fronte, diciamo, politico. Qui abbiamo un'assessora che è stata prima ancora grande donna di teatro e quindi forse a lei spetterà fare anche una piccola riflessione su questo rapporto tra cultura e politica, tra arte e istituzioni. e quindi è, come dire, bello e quasi commovente che la sua eredità approdino adesso di nuovo in città grazie alla donazione da parte della sorella Margherita Castri che arriverà nella pausa caffè per questioni, diciamo, ferroviarie, con la donazione dei taccuini. Io ringrazio innanzitutto Pietro Crivellaro che come responsabile uscente del centro studi ha curato questo rapporto fin dall'inizio. Ovviamente ringrazio Anna Feiron che gli è subentrata nella direzione del centro studi che l'anno prossimo compierà in 50 anni e cercheremo di valorizzare il patrimonio immenso che tutti voi conoscete bene. Ringrazio ovviamente Federica Mazzocchi che è direttore scientifico del progetto Etea della Valle che con grande passione e competenza ha portato avanti questo studio e ringrazio ovviamente Sara Nosari del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università che ci ha affiancati in questo lavoro. Il rapporto tra l'Università di Torino il Teatro Stabile è saldissimo, qui siedono in prima fila due illustri professori accademici che hanno portato prestigio alla nostra Università e teatralmente parlando sono stati due grandi maestre di generazioni di studiosi del teatro e credo che sia un momento di festa e di riflessione questa doppia giornata di celebrazioni perché appunto ci spinge non soltanto ad analizzare l'opera artistica e culturale di Castri, io non sono un'esegetta e quindi lo faranno altri meglio di me ma appunto spinge anche noi operatori a ragionare e riflettere su come Castri immaginava le funzioni, l'utilità, l'impatto sociale oltre che artistico del teatro sulla società contemporanea. Quindi io cedo volentieri la parola a Rosanna Purchia che è un caso rarissimo appunto tra le persone che rivestono ruoli istituzionali nelle amministrazioni pubbliche vanta una lunghissima esperienza teatrale che tutti voi conoscete e quindi insomma mi viene da fare una considerazione un po' amara, esposto, probabilmente se ci fosse stata lei tanti fa a fare l'assessore alla cultura, Castri non si sarebbe fermato soltanto due anni in questa città e forse non sarebbe screppato anche delle varie. Grazie. Buongiorno, grazie direttore, grazie Filippo, non lo so, non lo possiamo dimostrare però io ovviamente oltre a portare il saluto della città, del nostro sindaco e il mio personale sia nella mia funzione sia per il mio passato. Io ho avuto l'onore di passare tra Napoli e Milano circa 33-34 anni, quindi una vita, no a Milano sono stata 33, quindi dopo gli anni di Cristo, non pochi, poi quindi saranno 35, anni di meraviglioso teatro. La tragedia dei grandi registi di teatro è proprio la solitudine, cioè noi viviamo le loro opere perché ci danno emozioni e non resta nulla se non nel ricordo e nell'emozione di chi l'abissi, sì qualche ripresa, ma il teatro, teatro con la T maiuscola è altra cosa e noi lo sappiamo bene e questa è veramente una, secondo me, una grande vuoto che questi grandi registi ci lasciano e per questo che sono molto grata al Teatro Stabile per aver dopo dieci anni ricordato un grande artista, un uomo che io definivo simpaticamente burbero benefico e era grande, un uomo di istituzioni nonostante le sue esternazioni. Purtroppo ho lavorato con tanti grandi registi, con lui mai ci siamo sempre incrociati, lo abbiamo accolto, abbiamo visto i suoi spettacoli e io personalmente col teatro nel quale ero non c'era una grande affinità, questo va detto, però il piccolo era un teatro, era la casa di tutti, quindi anche la casa di Massimo. Filippo ha toccato un tema molto delicato e di cui Massimo è stato vittima di una ingerenza della politica, adesso è difficile per me dire, però ognuno di noi interpreta il proprio ruolo al di là del titolo. Penso che la politica, in senso alto, debba assolutamente accompagnare, Filippo lo sa, noi ci parliamo molto spesso, debba essere informata, debba in qualche modo vivere la vita delle proprie istituzioni, perché ad esempio il Teatro Stabile è il Teatro di Torino, quindi sarebbe assolutamente, voglio dire, anomalo, contro natura, non un colloquio, non una collaborazione che devo dire, posso dirlo in questi quasi due anni, non ho mai chiamato il Teatro Stabile per chiedere una cosa che non venisse, chiedo scusa, che non venisse poi realizzata per la città, con la città, come teatro, eccetera. Quindi penso che la nostra ingerenza deve essere molto delicata, dico sempre che ognuno deve fare il suo mestiere, il teatro fa il suo mestiere per certe linee, con certe linee, le persegue, i risultati poi sono lì da vedere e non c'è bisogno che la politica dica fai questo, non fare questo o non ce n'è alcun bisogno, perché se si fanno delle scelte sbagliate e capita, la politica sceglie, quindi può capitare di fare delle scelte sbagliate e bisogna anche avere l'umiltà di dire ho sbagliato, cioè per me ammettere gli errori è un atto di forza, non di debolezza. Quindi mi fa molto dolore che in questa città, io non lo sono, non posso mai dire se c'ero io, ma sicuramente anche per la cultura, che un uomo come Estrele, è una, lei sì, non io, una grande donna di teatro, anche lei poco ricordata come Nina Vinchigrassi, mi hanno praticamente, poi ti rimani addosso, non te ne liberi più, anche perché poi ci credi, al di là che da ragazzina ti danno determinati insegnamenti, maestri, eccetera, questo rispetto per gli artisti e Massimo lo era. Quindi al di là di qualsiasi problema che poteva capitare sicuramente il rispetto per l'artista non sarebbe mai mancato. Quindi io ringrazio ancora Lo Stabile per aver fatto questo momento di riflessione e di ricordo di Massimo e spero che non sia l'ultimo, perché senza memoria non abbiamo futuro, anche per il futuro del teatro. Grazie. Grazie. Passo la parola alla professoressa Sara Nosari. Grazie mille. Partecipo con sincero piacere a questa prima fase di avvio di queste due giornate dedicate a Massimo Castri. Partecipo con sincero piacere per manifestare due cose, la soddisfazione del Dipartimento di Filosofia e Scienze ed Educazione e soprattutto la convinzione avuta dal Dipartimento nel sostenere questo progetto. Mi soffermo quindi su soddisfazione e convinzione. soddisfazione per i risultati. Questa è ovviamente una delle manifestazioni del progetto di ricerca, ma in realtà sono tante le strade che hanno preceduto questo momento. Quindi in particolare soddisfazione di un Dipartimento che ha sostenuto in diverse maniere questo progetto. ma vorrei insistere ancora di più sulla convinzione. Perché il Dipartimento di Filosofia e Scienze e Educazione ha sostenuto con convinzione questo progetto? Fondamentalmente per quella che è la sua missione. Il Dipartimento vede fondamentalmente due anime. Il pensiero e l'azione. Il pensiero come visione è il nostro Dipartimento. Abbiamo molti che hanno delle visioni non tanto su come il mondo, la società, il cambiamento è, ma come potrebbe essere. Quindi un Dipartimento che immagina cambiamenti, li progetta, li riprogetta. Ma poi è anche un Dipartimento che lavora per realizzare questi progetti immaginati, queste visioni. Ma questa azione ha una caratteristica particolare, non è soltanto applicazione, esecuzione, è gesto. Quindi nel nostro Dipartimento le visioni devono essere tradotte, non eseguite, non applicate ma tradotte in un gesto. Ecco che allora voi capite che il gesto centrale di Massimo Castro non può che rientrare a pieno titolo all'interno della missione del nostro Dipartimento. E entra fondamentalmente per due caratteristiche significative della vita, mi piace più parlare di storie, della storia di Massimo Castro. Un gesto che è generativo e risonante, insisto su questi due termini. Generativo perché appunto da vita, aver avuto la possibilità di seguire le sue opere, oppure anche adesso con vari dispositivi di assistere, permette proprio di alimentare, alimentare, cuore, testa e cuore. E quindi è fondamentalmente generativo, ma ha una caratteristica ulteriore che non tutte le opere generative hanno, è risonante. Quindi non soltanto semina e genera, ma ha la capacità di rilanciare, facendo sentire lo spettatore libero, libero di proseguire secondo quelle che possono essere le personali interpretazioni. Allora, proprio per questa sua generatività e capacità di risonanza, il DFE ha creduto e continuerà a credere in un progetto come questo. dipartimento. Ci terrei a entrare un pochino più nel dettaglio e far comprendere a tutti come il Dipartimento si è riconosciuto all'interno di questa storia. Si è riconosciuto fondamentalmente per tre punti. Il primo è l'approccio, il secondo ruolo, il terzo è l'interesse. L'approccio, innovativo, ma di quell'innovazione fortemente educativa. Siamo un Dipartimento che comprende anche i pedagogisti, quindi l'orecchio. Un approccio fortemente educativo perché la sua innovazione non è il nuovo per il nuovo, ma è sempre l'intentativo di creare quell'equilibrio tra una tradizione e una contemporaneità che quindi porta a un cambiamento, ma non stravolge la tradizione. Poi il ruolo. Ecco, il ruolo del regista è all'interno della visione del Dipartimento un ruolo centrale perché di nuovo è un ruolo fortemente educativo. La forza del regista è una forza che continuamente deve avere una misura che trova in situazione. Non c'è una misura quantitativa predeterminata, ma una misura che in scena, dietro le pinte, deve sempre essere misurata. E ultimo l'interesse. L'avete richiamato un interesse pubblico. C'è una dimensione assolutamente pubblico, quindi non c'è soltanto il pubblico della sala, ma un interesse per un cambiamento che possa aiutare la società, la città prima di tutto, la città che ha frequentato, la società in generale, a poter continuare a mantenere una certa direzione che vorrebbe essere quella sempre più umanizzata. Quindi per tutte queste ragioni che spero di avere reso nel modo più fedele possibile all'opera e anche alla storia di Massimo Casti, il DfE continuerà, laddove ce ne saranno le occasioni, a sostenere questo progetto. Vi ringrazio. Grazie. Io a questo punto chiamerei qui al tavolo Tea della Valle Anna Peyron. Come sapete il lavoro di Castri aveva una tensione ovviamente generativa e risonante a partire dal testo, dall'analisi del testo e dalla sua elaborazione drammaturgica, il processo generativo di questa creazione è stato fortunatamente annotato nei suoi preziosissimi tacquini che sono una miniera, una ponte inesauribile di materiale su cui analizzare la sua estetica e il suo pensiero teatrale e appunto grazie a questo preziosissimo dono e al lavoro competente appassionato di Tea e di Anna Peyron potremmo oggi dovere i frutti di questo lavoro che a partire da domani saranno come sempre a disposizione di tutti gli studenti e di tutti gli studiosi che vorranno consultati. Quindi inviterei a lasciare la parola. Buongiorno a tutti. È una grande gioia e una grande emozione essere qui a tutti i qui con voi nella prima giornata dedicata a Massimo Castri che cade proprio il giorno del suo ottantesimo compleanno ma questo è un segno di affetto e di riconoscenza rispetto al suo magistero ma assolutamente non vuole essere un atto celebrativo che lui avrebbe detestato con tutte le sue forze. Questo convegno è il primo esito di un progetto sul fondo Massimo Castri al centro studi del Teatro Scabile di Torino che parte dal desiderio della sorella di Massimo Castri e Margarita di rendere pubblico per la fruizione a studiosi, professionisti e appassionati di teatro dell'amplissimo materiale scritto, raccolto e conservato da Massimo a partire dagli anni della sua formazione universitaria. Su suggerimento anche del professor Roberto Alonge, Margarita ha individuato il centro studi dello stabile come luogo dove consegnare questo materiale molto prezioso. Fondamentale anche l'apporto di Pietro Crivellaro che all'epoca era responsabile del centro studi e di tutto lo staff, io e Davide Giovanninetti nell'accogliere con entusiasmo questo materiale che però per essere fruito, catalogato e reso disponibile ha avuto il supporto fondamentale dell'Università di Torino che attraverso il progetto Castri che vede Federica Mazzotti come direttore scientifico e che è stato affidato a TEA della Valle ha potuto appunto mettere a disposizione del pubblico i taccuini. TEA della Valle si è laureata proprio su Massimo Castri e gli allestimenti dell'ultimo Pirandello dai taccuini alla messa in scena e ha dottorato su Ipsen nelle messe in scena di Massimo Castri sempre partendo dai taccuini fino alla messa in scena e ha seguito l'attività di Massimo come assistente alla regia per gli ultimi dieci anni di attività per cui chi meglio di lei poteva districarsi nella complessità di questi materiali. Oltre al convegno l'altro esito, l'altra cosa di cui si è occupata TEA è stata la costruzione di un sito dedicato all'artista che è ospitato sul dominio dell'Università degli Studi di Torino che analizza tutti i percorsi e che vi presenteremo a breve. La costruzione del sito ha permesso una sinergia, una collaborazione con quasi tutti i teatri con cui Massimo ha collaborato e molte istituzioni e archivi di privati che andremo poi a ringraziare nella presentazione del sito. Adesso cedo la parola a TEA che entrerà nel merito del suo lavoro. Buongiorno a tutti, inizierò raccontandovi un po' che cosa si trova in questo nuovo fondo Castri conservato al centro studi. È veramente una miniera. I materiali che sono arrivati attraverso la donazione della sorella Margherita documentano quasi tutte le sue regie di prosa. Si tratta di 66 spettacoli per i quali Castri tracciava il suo percorso di lavoro dalla presentazione alla realizzazione degli spettacoli. Castri ha scritto praticamente tutta la vita. I taccuini di regia, che sono ovviamente la parte più consistente del fondo, sono circa 400, accompagnati da 150 taccuini che invece riguardano le sue letture. Per formazione e per generazione, l'approccio di Castri, e per personalità in parte anche, l'approccio di Castri era un approccio da studiore, un approccio storicista, che partiva sempre dal contestualizzare gli autori dei quali si occupava attraverso una lunga fase di studio e di analisi. E che però accompagnava da un lato questo estremo scavo in profondità con una linea trasversale, cioè il fatto di accostare autori, di accostare chiavi di lettura, ha fatto sì che in qualche modo lui sia potuto ad arrivare a delle sintesi di analisi poi tradotte in spettacolo assolutamente inedite. Questo tratto di originalità e le sue osservazioni illuminanti hanno portato negli anni Ottanta alla pubblicazione di alcuni di questi suoi taccuni di regia, in particolare nei due volumi curati da Ettore Capriolo per i due libri, sugli allestimenti, i primi allestimenti degli anni Settanta di Pirandello, in Pirandello Ottanta e sui primi in Ibsen, in Ibsen post-Borghese. E sono stati anche poi oggetto appunto di risistemazione e fruizione, una fruizione in cui Castri era convinto, era sostenitore, affidava questi suoi materiali alla cura di persone esperte, come nel caso di Ettore Capriolo e come nel caso di Isabella Innamorati per quello che riguarda parte dei taccuini che lui ha scritto sul tema della tragedia. Quelli che sono stati pubblicati sono una parte, perché veramente si parla sempre della punta dell'iceberg, la cosa bella di questo lavoro è stata la possibilità di avere raccolto tutto insieme il materiale e quindi facendo un po' come Castri poter lavorare sia sulla profondità e quindi magari su un singolo allestimento ma anche sulla trasversalità e quindi di cercare di cogliere nel percorso completo della storia della vita dell'artista come il suo pensiero sia cresciuto nel tempo e sia cambiato ma si sia in un certo senso soffermato in particolare su alcuni autori e su alcune tematiche che lo hanno particolarmente interessato e colpito. Il materiale di Taccuini è un materiale che parla e che si parla, per cui va attraversato in tante direzioni e è interessante il fatto che la forma di fruizione che abbiamo scelto per il sito in un certo senso segue anche un po' questa modalità perché il sito permetterà in qualche modo sia di approfondire le singole leggi e di cercare di poter cogliere dei collegamenti tra queste parti. La scrittura di Castri è una scrittura che è anche molto personale. Questi Taccuini raccolgono contemporaneamente riflessioni sugli autori, riflessioni sui progetti e riflessioni personali a seconda delle varie fasi della vita che ha attraversato, perché il teatro è un fatto personale. Quando funziona ci colpisce, ci tocca, ce lo ricordiamo e si fa in prima persona. E Castri ha vissuto il teatro in questo modo, quindi c'è una grande permeabilità tra questo atteggiamento di studioso e quelle che erano invece le sue ossessioni anche private e personali, quella che era l'aspetto della sua vita e come si è sviluppata la sua vita ha fatto sì probabilmente che il suo pensiero si sia sviluppato in un certo modo. L'altra cosa che ci racconta i Taccuini in qualche modo è il senso di contraddizione, la consapevolezza anche di contraddizione che animava questo artista e il tentativo continuo di trovare una composizione a questa contraddizione e quindi di vivere in un certo senso uno spirito dialettico una tesi che veniva contrapposta a un'antitesi ma nel tentativo di trovare una sintesi cioè con un desiderio di movimento in avanti, di qualcosa che potesse essere costruttivo. è affascinante leggere i Taccuini perché molta parte di questo lavoro che come si diceva prima è condotto in solitudine perché riguarda una fase appunto che è progettuale e che anticipa il momento in cui il regista condivide con i collaboratori le intuizioni e comincia a discuterle per quello che poi sarà la realizzazione dello spettacolo alla lettura appare veramente come un dialogo con la pagina sono tantissime le domande, sono tantissimi i pensamenti, sono tantissimi dubbi ed è bello poter entrare nello sviluppo di un pensiero che ha questa caratteristica e che ha anche la caratteristica di cercare sempre un filo come un filo conduttore è qualcosa che tiene legato insieme i vari percorsi e che appunto ha permesso di collegare in modo inedito autori distanti tra loro, apparentemente distanti tra loro come Issele Pirandello o come Strindberg che sono stati appunto gli autori del momento della crisi del dramma borghese che hanno permeato, affascinato Castri nella prima fase della soffera. Aggiungo ancora due cose questa linea un po' di metodi, cioè cercare di analizzare la contraddizione cioè di non accontentarsi di una prima versione delle cose ma di provare a contrastarla e di metterla in dialogo e quindi di gestire il conflitto ma non una logica costruttiva è una secondo me delle lezioni che ci lascia al di là di tutto il patrimonio come dire culturale e artistico e anche il fatto di riuscire a rendere disponibile questo materiale alla consultazione, all'interesse degli studiosi ma non solo quindi di portarlo comunque alla luce, di non lasciarlo chiuso nei cassetti che è il motivo per cui appunto abbiamo deciso anche di in qualche modo raccontarlo attraverso una forma più contemporanea come quello del sito l'abbiamo vissuto nel farlo proprio come un gesto di cultura e di civiltà cioè quello che per Castri è sempre stato il fare teatro e che da questo si possa cercare di andare avanti e che ci sia un rilancio per il futuro i tempi sono cambiati ovviamente perché il teatro è anche qualcosa che vive nel tempo presente nel tempo presente si manifesta però c'è anche una dimensione ciclica in quello che ci succede e per esempio potrebbe essere interessante notare che è forse più consonante con i nostri tempi e con i linguaggi artistici di questo momento il lavoro che Castri faceva sulla drammaturgia dei primi spettacoli rispetto a quelli dell'ultimo periodo e ci sono messe in scena e lavori sul testo che sono assolutamente contemporanei hanno anticipato una serie di linguaggi ai quali adesso forse siamo più abituati l'altro aspetto che ha guidato un po' sia la ricerca che poi la realizzazione del sito è cercare di restituire non soltanto la grande profondità di riflessione intellettuale di questa figura ma anche la dimensione concreta e pratica del lavoro quella che è più difficile in un certo senso da trasmettere quindi in qualche modo anche i materiali che abbiamo voluto pubblicare sul sito cercano di documentare il momento delle prove cercano di documentare gli aspetti materiali di scatto e di confronto artistico questa ricerca è potenzialmente infinita perché ovviamente anche di questo Castri era convinta che il teatro è qualcosa che si fa insieme è il risultato di un collettivo che lavora è una poesia che nasce nel momento in cui tanti linguaggi e tante professionalità riescono a trovare una sintesi comune ci auguriamo che appunto anche questo sito possa essere in continua crescita e arricchirsi dei risultati di ricerca per i quali speriamo che il sito stesso e il lavoro sul fondo siano il stimolo e quindi che possa essere qualcosa che cresce nel tempo Anna approfondirà un po' mi farà un esempio di questa navigazione e l'altro aspetto è che questo lavoro è stato possibile perché c'è stata una grande collaborazione la prima fase di ricerca si è basata su come dire il tentativo di schedatura, di analisi, di suddivisione dei materiali oltre ai taccini di regia e ai taccini di letture ci sono materiali che documentano la prima parte della carriera di Castri come attore ci sono alcune foto, ci sono rassegne stampa, ci sono materiali legati ai singoli spettacoli ci sono materiali legati all'attività di Castri come saggista che fino alla metà degli anni 70 oltre alla famosissima tesi per un teatro politico pubblicata da Inaudi ma Castri era impegnato su questo doppio versante e ha continuato con la pubblicazione di una serie di saggi alcuni anche che hanno ricevuto scontri internazionali in particolare su Brett che in quel momento era il suo interesse principale sempre nell'ottica di un teatro politico sempre però vissuto nel tentativo di accostare la riflessione e la pratica pensare a quello che si sta facendo essere consapevoli di quello che si fa che è anche poi il tema che ha guidato alla sua riflessione pedagogica cosa deve saper fare un attore deve sapere cosa sta facendo controllare gli strumenti espressivi per una buona comunicazione anche la sua attività pedagogica è in parte documentata dai taccini così come la partecipazione a convegni e tutto quello invece che è il campo dell'interesse di Castri per la dimensione della politica teatrale quindi del fare teatro all'interno di una società e col desiderio di poter influire sulla società e di poterla in qualche modo trasformare e migliorare questo lavoro è stato possibile perché dopo la fase di schedatura come dicevo si è attivata la fase di completamento dei materiali per la realizzazione del sito e quindi una collaborazione con i teatri in cui Castri ha prodotto spettacoli con i loro archivi, con altri archivi e altre associazioni che conservavano magari i materiali di collaboratori di Castri c'è una rete di artistiche, come dire, di legami con Castri incredibile che si è sviluppata e io ringrazio tutte le persone che in qualche modo hanno collaborato a fornirci materiali, contributi in questo progetto e speriamo appunto che il sito possa essere anche un punto di riferimento per collegare mano a mano altri progetti analoghi che si possano in futuro sviluppare se hanno uguale una panoramica del sito certamente allora questo è il sito dedicato a Massimo Castri che per il momento è accessibile digitando l'indirizzo completo perché non è ancora stato indirizzato da Google che ci mette un po' di tempo a indicizzare oppure andando sul sito dell'archivio del Teatro Stabile di Torino sulla pagina dedicata a Massimo Castri c'è il link al sito il sito è suddiviso per nove sezioni abbiamo la biografia, le regie, metodologie, pedagogia, tacquini, la voce di Castri la bibliografia, gli archivi e per un lessico castriano che sono accessibili e espandibili dal box che vi ho mostrato e anche dalla barra laterale qui abbiamo la biografia che è una delle sezioni più complete è suddivisa per decenni vediamo che in carattere marrone ci sono i punti salienti del decennio e poi un piccolo riassunto si è privilegiato come in tutto il sito le parole di Castri tratte da interviste sui quotidiani sui periodici dai programmi di sala o dai suoi volumi ogni decennio è poi espandibile e ad esempio qua ci sono appunto le parole di Castri in un'intervista di Gianfranco Capitta per la trilogia della villeggiatura alla Pergola espandiamo un decennio ad esempio gli anni 2000 e c'è un oltre a un approfondimento maggiore le parole di Castri nelle interviste come si diceva e scendendo ancora in giù una fotografia relativa al teatro greco di Siracusa e Cuba e qui troviamo un contributo audio di Radio 3 che linka al sito dedicato a Massimo Castri una collaborazione importante che abbiamo avuto con la Mediateca di Torino e le Teche Rai in generale qua cliccando troviamo l'elenco dei materiali radiofonici e dei materiali televisivi che sono consultabili andando presso la Rai ma abbiamo anche il link a una documentazione che è subito visionata vorrei appena di chiedere subito qualcosa sulla compagnia di religione sul centro teatrale Bresciano alla quale la compagnia fa capo e che è un organismo abbastanza particolare che ha anche una sua collocazione piuttosto inconsueta nell'ambito delle strutture italiane per cui appunto ci sono anche i link alla documentazione andiamo poi sulle regie che è l'altra sezione diciamo più completa che riporta 60 spettacoli in ordine discendente per cui dall'ultimo spettacolo la cantatrice Calva fino al primo spettacolo i costruttori di Boris Vian la ricorrenza di cui già parlava Thea di alcuni autori che appunto ricorrono che sono stati affrontati più volte sono individuati da colori diversi Pirandello con questo arancione Ipsen in verde Goldone in giallo Euripide in azzurro Brecht anche in giallo e poi il percorso del teatro di radicamento che è nato in collaborazione con Emilio Iona e Sergio Liberovici con spettacoli legati al territorio è evidenziato in rosso qui questi spettacoli di Ionesco Moglier, Beckett, N.K.N. e Weber sono stati affrontati sono autori affrontati una sola volta mentre vedete così è se vi pare quando si è qualcuno di Pirandello in giallo e Cuba e Alcesti di Euripide in azzurro e in verde Spetri e John Gabriel Bortman andiamo su John Gabriel Bortman e si apre la scheda che è uguale per tutte le produzioni in cui si riportano oltre al titolo i dati di Locandina delle note ad esempio il fatto che è stato un premio U2002 le varie riprese l'immagine della Locandina e come diceva Thea le interviste con le foto per cui le parole di Massimo sullo spettacolo qui un'intervista di nuovo e poi il passaggio dalla pratica insomma abbiamo i bozzetti del modellino che avete visto anche lì fuori dalla sala colonne con il raffronto con le fotografie dello spettacolo quello che diceva Thea la costruzione artigianale e di collaborazione per lo spettacolo le scene di Maurizio Balò e i costumi sempre di Maurizio Balò qui una rassegna estratti dalla rassegna stampa accompagnati sempre da alcune foto e poi gli approfondimenti in questo caso si può accedere al trailer o alla pagina dell'archivio del teatro stabile perché era una produzione del teatro stabile e qui si arriva appunto alla pagina dedicata con degli approfondimenti per produzioni di altri teatri ovviamente il link è al ai materiali degli altri teatri abbiamo poi la sezione metodologie che approfondisce la poetica di Castri mediante i suoi strumenti concreti di cui parlava prima te al lavoro sul testo le scritture il lavoro sui vari attori ma anche poi andremo a a vedere il lavoro sullo spazio qua ci sono esempi di tattini di regia e qua il lavoro appunto sullo spazio con un modellino di scena e un approfondimento se vuoi aggiungere poi delle cose sempre tornando alle metodologie oltre al lavoro sullo spazio c'è anche il lavoro sulla recitazione con approfondimenti ad esempio sulle prove a tavolino cliccando su prove a tavolino troviamo sia dei link a degli audio che ne sentiremo degli spezzoni durante il convegno qui invece c'è la trascrizione dalle prove a tavolino del piccolo Ejolf da una tesi di laurea di Vittoria Castagneto in cui appunto c'è dialogo tra i vari attori e Massimo Castri per cui alla Ricosa la Roi la Estra eccetera qui appunto le prove di link all'audio che non ho cliccato perché poi andremo appunto a proporvelo nel corso del convegno qua pedagogia per cui l'attenzione di Massimo al tema della pedagogia appunto esplora l'interesse di Di Castri e abbiamo degli approfondimenti sulla scuola civica e poi una bibliografia qua vedete tutte le sezioni in realtà hanno al fondo la bibliografia che viene poi riportata cioè questa è la bibliografia tematica collegata alla pedagogia però poi nella box diciamo nella sezione bibliografia c'è tutta la bibliografia completa qua l'approfondimento dai taccuini dell'attore con una trascrizione di alcuni brani nella sezione taccuini invece viene analizzato proprio tutto il lavoro il fondo castri del centro studio da che cosa è composto i materiali del fondo e anche qui una bibliografia andando sul link i taccuini di regia si finisce di nuovo in metodologie per cui la complessità del fondo si riflette anche nei vari collegamenti che ci possono essere tra le diverse sezioni per cui qua la voce di Castri è interessante il fatto che molti di questi contributi sono di archivi personali soprattutto di Franco Visioni che con Massimo Castri ha collaborato moltissimo per la parte diciamo di suono poi c'è la bibliografia come dicevo che è articolata in scritti e interviste di Massimo Castri e poi invece ci sono appunto tutti i titoli gli iscritti su Massimo Castri le tesi di laurea anche questi sempre da implementare ovviamente poi per un lessico castriano anche questa sezione è da implementare si sono evidenziate dei lemmi su cui Castri ha riflettuto e ai quali poi collegheremo delle riflessioni delle parole di Castri e qui gli archivi che abbiamo detto sono stati fondamentali oltre al nostro centro studi c'è il centro teatrale Bresciano la Circa Scuola Paolo Grassi l'Ert l'Inda il Piccolo di Milano le Techerai il Biondo di Palermo il Teatro di Roma il Teatro Stabile dell'Umbria e la Mediateca del Dipartimento di Studi Umanistici aggiungo solo due cose legate alla collaborazione oltre a dire che c'è nel sito una sezione contatti dove c'è una mail alla quale si può fare riferimento sia per richieste di informazioni domande sul riferimento dei materiali o anche per segnalazione di imprecisioni e esattezze visto che il lavoro è stato davvero molto esteso e sarà in continuo aggiornamento che riguardano appunto le collaborazioni ringrazio intanto Andrea Cora che è presente del Centro Studi e del Centro Teatrale Bresciano che è stato fondamentale soprattutto nella documentazione delle regie Bresciane di Castri ci sono dei materiali bellissimi e appunto dobbiamo a loro la possibilità di poterle documentare sul sito oltre ovviamente a ringraziare gli archivi e tutti i teatri ma c'è stato veramente un ottimo rapporto in questa realizzazione e segnalare due cose particolari oltre alla realizzazione della politica di Rete che mette a disposizione veramente anche lì la punta dell'haisberg di tutti i materiali che Rete che conserva legati a Massimo Castri ma che sono inediti alcune cose veramente sono state una sorpresa anche per chi Castri lo conosce lo studia da tempo e che sono stati lavorati e portati a una qualità veramente molto alta quindi vi consiglio di insomma frequentare il sito perché davvero è una ricchezza molto importante e l'altra cosa e poi così come dire cominciamo col primo contributo una delle scelte che sono state fatte tanto nel sito quanto nel convegno di questi giorni è lasciare parlare Castri e quindi potremo sentire due piccoli interventi che vengono dal fondo Emilio Iona Sarge Liberovici di Creo che è il centro ricerca e con musica e oralità che si trova a Corino alla sede a Coro del Novecento e che ringraziamo perché appunto ci ha permesso di estrarre documenti che riguardano sono dei frammenti del 72 e che riguardano appunto uno degli spettacoli del teatro di radicamento per uso di memoria al quale si ispira anche il titolo del convegno i due frammenti documentano uno la fase di interviste cioè come in questa metodologia particolare di lavoro per persone col territorio Cattri lavorava per costruire una drammaturgia ed è interessante osservare che tipo di domande lui fa perché le ritroviamo poi nel suo modo di affrontare i personaggi quando lavora negli anni successivi in teatro e la seconda invece dà un'idea del suo modo di intendere appunto il teatro e la progettualità e ci racconta un po' e lo vedremo in questi giorni questa specie di filo rosso che collega un po' tutta l'esistenza e il concorso di Cattri salutiamo Margherita Cattri che è arrivata a questo mi avete tradito mi abbiamo tradito sei arrivata al momento giusto sono arrivata ora da Firenze trovo che sia freddo qua molto più che lei ha detto a loro non mi chiamate non voglio e no vabbè solo a far dirti grazie grazie io sono contenta soprattutto perché sono riuscita a mettere insieme tutto il materiale che Massimo aveva lasciato i famosi taccuini che lui compilava su taccuini anche vecchi riciclati di casa e sono riuscita a metterli tutti insieme a dargli un buon senso e a catalogare un po' e loro ci hanno lavorato professionalmente il senso del mio contributo e della mia presenza è questo tra l'altro io poi con mio fratello ho avuto durante la mia vita non neanche tanti rapporti perché io ho avuto una vita abbastanza banale e legata alla famiglia e lui tutt'altro e lui non amava neanche tanto nella famiglia neanche tanto meno i bambini per cui i miei figli quando li vedeva li guardava come degli animalini marziani e ciò nonostante però siamo sempre stati abbastanza legati perché tutto sommato rispetto anche alla famiglia Dorin abbiamo scelto due strade diverse lui verso la sublimazione artistica io verso il tentativo di risolvere problemi della vita invece sul piano del quotidiano però è sempre rimasto un filo e poi quando poi si è ammalato il quotidiano purtroppo gli è arrivato addosso e poi era solo lui alla fine perché lui non ho mai poi amato tanto non ha mai investito tanto sul costruire i rapporti effettivi stabili non era nella sua natura e quindi gli ultimi anni siamo stati diciamo anche forzatamente a volte insieme e tutto questo materiale io mi sono ritrovata fra le mani sinceramente ma anche insomma ma anche ingombrato e preoccupato ingombrato anche fisicamente perché sì anche io mi parlo molto grande perché poi tutti i libri tutto il materiale ne sta qualcosa Pietro Rivellaro che è venuto anche a casa mia fisicamente a prendere e a cui inizio è stato un lavoro così a vari a vari livelli io sinceramente quasi non volevo quindi dico la verità perché sono anziana e un po' malconcia e quindi avevo quasi malconcia forse molto toscano però forse un po' di allevare adesso sentiamo i contributi della voce di Castri che bene no scusa no scusa forse va dopo pulizzo no 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 comunque ricordo magari la storia così pubblica dell'occupazione si può ricostruire abbastanza bene anche attraverso i documenti attraverso i giornali e così via quello che mi interessava sapere che è più vicino al nostro tipo di lavoro che ci può essere più utile così per materiali così no sul fascismo antifascismo oggi per esempio è così di conoscere più da vicino quella che è l'esperienza vostra concreta dico per esempio la vita durante l'occupazione i rapporti con i mariti i rapporti con gli uomini i rapporti con la famiglia che cosa ha significato per esempio non so entrare dentro una fabbrica e starci chiuse per tutti questi giorni che tipo di sentimenti si prova che tipo di atteggiamento si prova nei confronti della fabbrica e così via e poi vorrei aprire un discorso come voi anche per che tipo di collegamento per esempio sentite tra la vostra questo magari vorrei che potesse anche allargare il discorso a tutti quanti gli altri sarebbe meglio che tipo di collegamento per esempio trovate o sentite o a livello così di sentimentale o a livello razionale quello che volete per esempio tra la lotta della resistenza e questo episodio dell'occupazione della vostra fabbrica che cosa pensate che sia per esempio il fascismo che tipo di volto che tipo di faccia assume è uguale a quello di prima oppure a una faccia diversa ecco su tutte queste cose qua che mi piacerebbe un po' ecco sentire sono tante lo so sono abbastanza ma comunque sono tutte collegate io secondo me il fascismo è quello di sempre cioè gli altri tengo conto di sempre d'accordo ma in particione di queste cose qui non tengo conto soltanto che tengo conto anche ho cerito di tener conto ormai da anni di esperienze ne abbiamo fatte tante e di linguaggi ne abbiamo usati tanti e di modalità di spettacolo ne abbiamo utilizzate moltissime da quando abbiamo cominciato nel 64-63 a fare i primi spettacoli per le case del popolo cerchiamo anche cerchiamo anche di dare ogni volta con i pochi spettacoli che abbiamo la possibilità di fare perché avesse la possibilità di fare un arco di spettacoli continuo magari a quel punto poi anche fare un discorso più organico più robico nelle poche volte hai un modo di fare uno spettacolo cerchi anche di dare un'impostazione con lo spettacolo che fai un'impostazione di politica culturale che sia più avanzata e più retta e più giusta e non semplicemente di retroguardia di difesa cerchi di dare una spinta in avanti al discorso della politica culturale ecco allora a questo punto io vorrei capire dov'è l'avanguardia cioè dov'è la punta più avanzata dello spettacolo la punta più avanzata dello spettacolo è nella dimostrazione che la storia non la devi cercare sui libri ma ce l'hai anche qui a portata di mano nelle case di tutti e che naturalmente se vuoi cominciare a voler fare un discorso di storia della resistenza sul fascismo devi cominciare a prendere la gente che l'ha fatta e farli parlare prima ancora di far venire il trombone da fuori che ti faccia il discorso del 25 aprile anche da parte mia davvero molte grazie all'università al teatro stabile a tutto il gruppo di lavoro del progetto Castri che come avete compreso è un progetto che si propone di diventare un cantiere permanente quindi insomma abbiamo bisogno di molta continuità e di molta appoggio molte risorse anche un grazie di cuore a tutto il comitato scientifico che ci ha accompagnato è stato al nostro fianco in tutte le fasi della progettazione con il comitato del sito abbiamo cominciato a parlare già due anni fa quando appunto tutto si è messo in moto e naturalmente un grazie di cuore a Margherita Castri che con il suo lascito ha generato questo effetto domino molto felice che ci ha portato ha messo in moto tutto tra un momento comincia il primo panel quindi pochissime parole per darvi qualche notizia del titolo che in effetti mi è venuto un po' lungo ma desideravo poter richiamare tutte le parole chiave diciamo che ci permettono di raccontare Massimo Castri quindi partiamo dal fondo scrittura pedagogia e comunità scrittura del grande lavoro di drammaturgia lo sappiamo avete potuto già vedere i tacquini almeno alcune pagine ma anche la scrittura scenica realizzata con i collaboratori di una vita il grande grande lavoro sull'attore sui compiti e sulle competenze dell'attore che ha accompagnato Castri sempre con un'interrogazione continua e infine quello che è stato un po' il suo rodello cioè il senso il significato la responsabilità del gesto artistico nello spazio pubblico quindi queste sono state le sue grandi aree di lavoro di riflessione di ricerca che occorreva ricordare appunto la prima parte è invece una citazione come avete come sicuramente avrete riconosciuto il titolo di uno spettacolo molto importante per uso di memoria scritto da Castri da Emilio Iona e da Sergio Liberovici che ci permette uno spettacolo che si occupa dei canti insomma della resistenza in Toscana quindi riprende da qui tra l'altro avete appunto sentito un estratto siamo nella fase del teatro di radicamento di cui che è stato nominato prima è importante io credo ricordare questo momento aurorale fondativo della storia teatrale di Castri cioè il tempo del teatro politico che lui vive nelle prassi ma anche nella grande riflessione da cui poi sfocia il primo dei suoi grandi testi che è per un teatro politico appunto dove precisa già in questa fase sono messe a fuoco precisate alcune delle sue nozioni fondamentali dallo straniamento al realismo prospettico cui poi rimarrà sostanzialmente fedele tutta la vita pur con rimodulazioni e modellazioni successive ma per uso di memoria ha anche evidentemente una intenzione metaforica Castri ha rischiato diciamo così una certa rimozione dal dibattito pubblico ha rischiato di scivolare un po' in un conno d'ombra e sappiamo che il teatro è una creatura effimera quindi è necessario fare memoria appunto costruire ponti che permettano di riattivare il contatto tra un grande patrimonio teatrale e soprattutto le nuove generazioni che magari per ragioni anagrafiche appunto non ne hanno avuto una relazione diretta quindi in prospettiva del futuro e significa pertanto assumere la memoria come un fatto vivente senza protensioni nostalgiche e senza chiudersi in un museo quindi tornare a guardare le sue bellissime immagini a studiare le sue pagine così strane così stimolanti così diverse dagli soliti scritti teatrali e anche sentire la vibrazione delle sue domande dentro di noi nel nostro presente teatrale quindi ritengo che questo sia fare un buon uso della memoria e della storia per capire parlando di Castri e attraverso Castri anche qualcosa di noi oggi tra un momento chiamo il primo relatore abbiamo però un contributo video quindi senz'altro diamo inizio ai lavori del convegno Castri grazie grazie mille è molto interessante che effettivamente che lui pubblicasse in quel momento un libro un volume teorico sul teatro politico e facesse un teatro politico ecco direi che proprio è molto interessante questo fatto quindi abbiamo questo rapporto di amicizia di simpatia ci vediamo per mesi ovviamente perché questa cosa è durata due o tre mesi di lavoro preparatorio più ha girato 26-27 paesi della Toscana gli stessi paesi dove noi avevamo fatto la ricerca e normalmente tutti gli spettacoli finivano con alla presenza dei testimoni che magari ritornavano a partecipare e aggiungevano qualche cosa a quello che avevano già detto nell'intervista quindi era una specie di strano work in progress era una specie di teatro che si autoalimentava e che poi tentava proprio questa operazione di coinvolgimento di quello che avveniva a livello di base come appunto le bande musicali il teatro amatoriale i circoli operai che facevano fotografia usavamo tutto quello che trovavamo in loco ecco io ricordo perfettamente proprio le discussioni dei dialoghi con lui e questi quaderni dove lui quotidianamente segnava puntava inventava le cose e poi ricordo proprio questa creazione l'ingiustizia assoluta è stata fatta a Pistoia e era in una fabbrica ci sono delle fotografie pieno di gente tutto il paese tutta la città era stata non solo ma è stata un'idea di Massimo molto bella avevamo creato degli enormi pupazzi questi pupazzi uno cantava il balcero della borghesia e l'altro il tango del proletariato e ci sono anche credo così c'erano le bande del paese che suonavano noi che cantavamo e si andava verso il teatro era un corteo quello che andava verso il teatro con questi grandi pupazzi che muovevamo così noi e da lì andavamo verso il luogo io lo ricordo come esperienze belle come esperienze molto positive molto affettive insieme al fatto che Massimo era un grande uomo di teatro questa coniugazione tra la capacità tecnica e narrativa e di uno che strano poi in un autore così dedicato alla crisi così grande nel fare Pirandello nel fare Stringle nel fare Ipse che era la sua cifra di fondo erano dei testi che nascevano nella concretezza del fare del raccogliere fare tradurre e c'erano non c'erano tante persone ma sempre 8 10 7 15 persone che alla sera venivano per la porta era aperta si sedevano e vedevano quello che facevamo vivevamo nel luogo con un rapporto diciamo umano che si estendeva nella città e stavamo nella città cioè il testo mi si propone appunto come un sistema di segni da decodificare in qualche modo cioè come una superficie testuale che devo decodificare fino magari poi a riprodurla nella sua interezza di superficie nella sua integrità di superficie e lavoro con svariate metodologie da tra parte se non è la prima volta che lo dico mi sono trovato anche in altre occasioni a spiegare i misteri del retro bottega di chi fa regia di questi tempi e quindi ripeterò delle cose che sono già abbastanza conosciute perlomeno da molti da molti di noi direi che il testo dà origine molto spesso alla scoperta di un sottotesto e questa è una delle metodologie più normali che io metto in atto evidentemente è chiara l'analogia in questo caso tra superficie testuale e certe indicazioni metodologiche che ci vengono dalla psicanalisi per esempio il testo è una superficie che svela ma anche rimuove e soltanto in quanto rimuove svela e così via di conseguenza ecco che si va alla ricerca di un sottotesto adesso i termini non spaventino perché sono così delle etichette di comodo che uso ecco è una ricerca di un sottotesto che riscalda il testo e stabilendo un rapporto dialettico con il testo dà origine a una dà origine diciamo appunto dico a una materia sulla quale appunto scatta poi il secondo momento che è il momento della scrittura scenica ecco altre volte invece su un testo si tende a lavorare soprattutto attraverso il sovratesto il sovratesto cioè sono le concrezioni che si sono stabilizzate su un testo dico attraverso l'uso che del testo è stato fatto nel corso appunto degli anni dei secoli spesso attraverso i quali è passato faccio un esempio per chiarire molto rapidamente nei confronti del dramma borghese per esempio forma molto chiusa e forma quanto mai simile a una superficie di scrittura che svela celando e operando continue rimozioni o agito e mi riferisco a Pirandello e mi riferisco a Ibsen soprattutto attraverso il reperimento in svariati modi con svariate metodologie naturalmente con svariati strumenti di analisi del testo o agito elaborando ritrovando e mettendo in attrito con il testo ritrovando un sottotesto a conto nei confronti di certi autori quando più autori specialmente che elaborano un sistema di metafori ossessive e mi riferisco specialmente a Pirandello che scrive sempre la stessa opera in qualche modo elaborando continuamente una stessa metafora che è centrale della sua problematica o del suo io in qualche modo oppure Ibsen che elabora un sistema di metafori ossessive estremamente compatto estremamente chiuso ecco che allora sul testo si può lavorare attraverso il contesto cioè contestualizzandolo dentro la filigrana totale del corpus dell'autore utilizzando gli altri testi che non sono in questione in un momento specifico non so mettiamo il costruttore Solnes deve essere messo in scena ecco ci sono gli altri testi di Ibsen che possono servire come delle filigrane di interpretazione come delle cartine trasparenti che si mettono sopra il testo per recuperare appunto una collocazione contestuale del testo stesso dal quale il testo viene ulteriormente illuminato vedere Goldoni come un grande maestro di realismo di grande realismo non di piccolo realismo realismo come quello di Cecco non sono tanto per intendersi e coglierne questa lezione enorme che è soltanto in parte secondo me risalire a risconti in parte per ritrovare questa capacità di leggere in Goldoni questo maestro di occhio realistico di grande occhio realistico insomma Streller l'ha fatto in buona parte per le commedie popolari ma da tutti i versanti ancora appunto dei Goldoni volghese quello della filosia appunto e così via che non è stato lavorato in questo senso qua coglierne la profondità realistica quindi lavorare molto lavorare molto dico non tanto di resia nel senso tradizionale del termine ma lavorare molto appunto sull'attore con l'attore per l'attore in funzione appunto della complessità e della ricchezza del personaggio scritto grande affresco poi infatti è un romanzo quasi più che un testo teatrale traccia proprio questa metafora della incapacità di vivere che è molto moderna molto ci riguarda tutta ancora insomma questa incapacità di vivere che è un'incapacità di cogliere le proprie possibilità profonde perché imbrigliati da regole da ordini da abitudini da profie mentali e così via per cui poi c'è questo arco che dall'aspettativa della felicità che sono le smagni si arriva poi alla profonda infelicità del ritorno si ritorna dalla dileggiatura ma non si è trovato niente di quello che si aspettava esattamente come se si attraversasse la vita e alla fine della vita si dice non si è trovato niente di quello che aspettavo dentro la vita ma la colpa la colpa è soltanto del personaggio lui non dà colpa a nessuno la colpa è proprio dell'uomo della sua incapacità di vivere visita camariere in casa di fabrizio succia nespoli vecchio servitore di fabrizio e tonino invece che servitore di fulgenzio come in tanti tetti di coltoni ci sono due case infatti ne vediamo una soltanto ma ci sono sempre due case a cui si va e si viene si viene si viene si viene no con movimenti appunto di scambio che a volte si fanno molto fitti insomma e quindi ce lo leggiamo piano piano non corriamo non cercate non cerchiamo di recitare perché non serve un cazzo no semplicemente leggere direi la regola è leggere con calma e leggendo cercare di vedere ovviamente capire anche quello che si legge insomma ci mancherà di altro no se no fa bene allora non serve un cazzo no ma cercare di vedere fare subito lo sforzo appunto di capire ovviamente insomma dicono quello che si sta leggendo quello che sta accadendo appunto e così via ma cercare anche questo magari sarà più facile poi nella lettura di domani vedere cioè trasformare sempre la lettura in immagine in immagine non in parola no ma vedere quello che si sta leggendo e cominciare a produrre un mondo visivo in qualche modo probabilmente oggi è un po' più difficile perché si legge il testo così insomma per la prima volta è meglio tentare di capire e poi vedere domani si potrà cominciare però questo sforzo del vedere del trasformare in visione del trasformare in immaginazione quello che si legge è uno sforzo che deve essere fatto sempre perché è lo sforzo principale che poi l'attore deve fare che non sono per recitare poi dopo in un altro secondo momento insomma ovviamente ok procediamo questo lavoro su Euripide è cominciato tanti anni fa è cominciato veramente da tanti anni è cominciato in forma di laboratorio appunto verso il 90 in forma di laboratorio con dei giovani durante un master sulla recitazione e così via in Toscana appunto lì sulla costa e abbiamo fatto i primi frammenti di questa trilogia dei figli no? avevo scelto questa materia Euripidea molto affascinante perché parla sostanzialmente non dei grandi tragici ma parla dei figli no? disperati per quello che hanno combinato i padri sostanzialmente mi sembrava una materia molto giusta per lavorare sul personaggio insieme a dei ragazzi giovani ho fatto la lettera nel 93 a Spoleto poi ho fatto un'infigenia prima di questa però era sul palcoscenico uno spettacolo di mercato non mi soddisfaceva per niente e poi ho fatto un'oreste che era l'ultimo pezzo anzi il penultimo pezzo appunto con il fabbricone di Prato ecco mi restava questa voglia appunto di fare l'infigenia come avrebbe dovuto essere all'inizio e come era in effetti appunto nel primo frammento poverissimo che abbiamo fatto appunto nel laboratorio della costa ovest appunto lì in Toscana e allora appunto ad un certo punto l'anno scorso a Prato ho deciso di tentare appunto di recuperare questa immagine questa voglia e abbiamo fatto questa infigenia che porta a compimento effettivamente un progetto di immagine di senso che era cominciato molto prima insomma in qualche modo in effetti questa infigenia adesso completa il disegno perché voglio dire è questo deserto da fine del mondo dove finisce il mondo che viene è stato incastrato in questo posto che mi sembra lo accolga benissimo devo dire che lo spettacolo qua mi piace più che a fabbricone è più forte l'immagine appunto di quella perché c'è un rapporto con l'ambiente che è un rapporto più più efficace queste belle porte che ci sono qua che danno questo rapporto di scontro con la sabbia insomma di straniato insomma il gesto comunque risulta risulta più bello niente quindi qui finisce questo viaggio che è per noi anche il viaggio d'Oreste non è soltanto il viaggio della drammaturgia il viaggio d'Oreste appunto che comincia con le lettere e passa per l'Oreste e arriva l'infigenia questo viaggio di Oreste è la ricerca della salute della sanità mentale appunto della felicità o della serenità non so e forse la trova la trova proprio qua nel deserto ritrovando questa piccola sorella questa piccola sorella che era sopravvissuta in fondo anche lei in qualche modo che però ha avuto la fortuna come dire di scavalcare tutto il grande casino allora cominciamo senz'altro con il nostro primo relatore Roberto Alonge il rapporto di Castri con Torino non comincia quando Castri arriva a fare il direttore ma comincia molto prima e comincia grazie appunto a Roberto Alonge che è stato professore ordinario fondatore del dance per molti anni preside di facoltà ha scritto moltissimo su Castri e ha spinto molti di noi a farlo a lavorare su questo grande regista e ha fatto molta memoria su Castri cioè ha raccolto negli anni sistematicamente quasi tutto i video di Castri più o meno c'è quasi tutto in Mediateca non si sa ma io ve lo dico sì c'è quasi tutto sì e quindi insomma questo patrimonio è rimasto come nella Mediateca del Dipartimento Studium di Torino a disposizione di chiunque gli studiosi studenti per una conoscenza appunto che è mediata dal video però per riattivare appunto il contatto con le immagini Roberto Alonge ci presenta una relazione dal titolo Massimo Castri un regista professore poi 30 minuti allora si sente o non si sente si sente si sente prima non sentivo mai sarà la vecchiaia allora chiederei però a Federica che ringrazio per avermi invitato insieme Anna Peiron di dirmi quando mancano gli ultimi dieci minuti così io ho conosciuto Castri nel 76 nel senso che lui che non lo conoscevo lui mi telefonò gentilmente e mi disse ho fatto vestire gli nudi ho letto il tuo libro ci sono alcune affinità tra il tuo modo di interpretare Pirandello e il mio modo di metterlo in scena viene a vedere la Brescia e io ho preso il trenino e andai a vedere vestire gli nudi 76 poi effettivamente da allora fui molto in in sintonia nel senso che non solo ci univa Pirandello ma poi lui mi invitò nell'80 quando fece Edda Gabler a Ravenna a Ravenna mi fa a Ferrara a Ferrara mi invitò a fare una conferenza su Ipsen di cui non mi ero mai occupato e lì cominciò il mio amore per Ipsen che ancora non mi abbandona e quindi sono grato a Castri per questa seconda apertura e nel 2003 quindi dieci anni fa esattamente no nel 2003 quanto fa vent'anni fa vent'anni fa ho scritto un libro da non mi ricordo più come si chiama l'editore di Roma Burzoni una monografia su Castri dove sono partito da una contrapposizione tra teatro di ricerca e teatro di tradizione intendendo per teatro di tradizione un teatro diciamo così dai Greci ai giorni nostri dove è centrale il testo e dove quindi l'interprete gli attori il regista mettono in scena il testo più o meno nella sua integrità poi naturalmente con qualche taglio con qualche snellimento ma insomma questo è il teatro di tradizione il teatro di ricerca è un'altra cosa il teatro di ricerca mette al centro la creatività dell'interprete dell'attore del regista e quindi è un teatro dove il testo c'è ma c'è come una tessera insieme a tutti gli altri codici con i quali comunica il teatro la scenografia la musica la recitazione la prossemica eccetera eccetera allora mi sembrava rileggendo un po' l'attività di Castri che sul punto di partenza fosse stato il teatro di ricerca dove in sostanza lui l'esempio più clamoroso è stato Rosemason di cui avete visto un frammento dove insomma fu uno spettacolo Rosemason è del 1980 e fu uno scandalo fu uno scandalo perché questo testo di Ibsen che ha sei personaggi e che ha un suo spessore e lui ha tagliato tutto l'ha ridotto a due personaggi due protagonisti Rosemary e Rebecca e tutti gli altri non ci sono più e appunto una parte della critica si indignò Gastone Geron che certo scriveva sul giornale e disse ma questo è una cosa incomprensibile inaccettabile sono degli sketch rivistaioli mi pare che avesse usato proprio questo termine ma anche perché questo scandalo perché insomma effettivamente Rosemason è certamente uno scontro fra due fra due protagonisti eccetera eccetera quindi un rapporto Sadomaso questo c'è ma Rosemason è anche un luogo reale un luogo come dire sociale storico dove si confrontano una visione una classe un ceto conservatore un ceto progressista dove c'è il dramma anche di Rebecca che è figlia di un'infermiera ragazza madre che ha l'ambizione alla scalata sociale come tante altre figure femminili di Ibsen e dove c'è anche il dramma di Rosemason che è un capo religioso che è il pastore luterano che a un certo punto sotto il fascino della bellezza della giovinezza della cultura moderna di Rebecca diventa ateo quindi insomma è un testo potente Rosemason non può essere liquidato quindi effettivamente mi sembrava che ci fosse questo atteggiamento appunto a gusto di avanguardia come Carmelo Bene grande interprete del teatro di ricerca intitolava i suoi spettacoli shakespeariani da Shakespeare non diceva di Shakespeare perché appunto tagliava spostava invertiva riduceva massacrava e così i castri della prima fase poi però devo dire a rileggere questo questo mio libro insomma non tutto ma insomma a riguardare un po' questo libro a vent'anni di distanza mi è venuto il dubbio che forse non era vero cioè che che in realtà sì c'è una prima fase di castri grosso modo dall'inizio degli anni 70 sino a metà degli anni 80 quando comincia a rispettare l'integrità del testo questa prima fase effettivamente è una fase irrequieta è una fase in cui lui fa delle sperimentazioni ma ho l'impressione lo dico in maniera autocritica che in realtà e per questo ho scelto il titolo un regista professore castri è originale mi pare che se ricordo bene Capita l'ha detto molto bene già non so quanti anni fa in occasione di una iniziativa del mio collega di Milano Paolo Bosisio che faceva dei convegni dove li faceva? a Gandiano sul lago di Garda e ne fece uno su Castri e andò a parlare appunto Capita che disse Capita Castri non è tanto amato perché è in una situazione particolare cioè è un regista che scrive dei libri ha scritto un libro importante pubblicato da un grande lettore con i Naudi ne ha scritte altre due che raccolgono i suoi taccini ma che secondo me devo averlo scritto da qualche parte non ricordo dove quei due libri i suoi taccini su Ibsen e su Pirandello l'ho scritto meritano una cattedra di professori ordinari perché hanno una pienezza di intuiti di l'università è un po' come il paese Italia ci sono delle eccellenze ma ci sono tanti centroni nell'università quindi voglio dire la capacità di dire delle cose nuove da parte del docente medio è una capacità modesta allora rispetto a questo Castri per me era un astro perché aveva delle intuizioni sia su Ibsen sia su Pirandello ma anche su Gordone anche su Uripile cioè è assolutamente straordinaria questa capacità di Castri allora diceva Capita Castri non può piacere perché la scrittura appartiene allo studioso il regista è oggetto di scrittura si scrive sul regista ma il regista che contemporaneamente è oggetto di scrittura per gli spettacoli che fa ma che pretende di essere anche scrittore e dà fastidio ecco questo mi pare che lo dicesse con molta efficacia capita effettivamente è un po' così io poi devo dire mi sono un po' innamorato di Castri anche se poi lui era molto brusco perché la tea della valle ci ha dato una bella immagine però come dire dolce con la dolcezza che è tipico di tea ma in realtà Castri era cattivello pur avendomi detto viene a vedere poi però nei suoi tacchini su Pirandello su Ips ogni tanto dice ma a longe non capisce niente invece Perrelli Perrelli sì che capisce noi mi conosciamo Perrelli che voleva dire invece a longe sì perché probabilmente non gli piaceva che io avessi scritto che Spettri apre la porta che Oswald apre la porta insomma gli dava fastidio questa mia trovata l'ingegno perché è importante il lavoro di Castri e arrivo alla al mio discorso di fondo cioè che forse non c'è questo scarto fra una prima fase più libera e una seconda che c'è sempre stato per Castri la centralità del testo direi che sicuramente in Rosemerso non si vede ma in Pirandello Vestire gli Inudi che poi è proprio il primo spettacolo significativo della prima fase di questa cosiddetta prima fase e beh lì fu un colpo un colpo da maestro perché Vestire gli Inudi è una storia pirandeliana un po' ottocentesca un po' meno drammatica una maestrina che viene presa dal console italiano Smirner che deve fare la badante l'istitutrice della bambina del console e poi arriva un bel giovinotto tenente di Vascello che sta lì tre giorni e tre notti e la terza notte lei si concede o comunque c'è un po' di petting non è tanto chiaro se proprio c'è sesso oppure solo petting ma comunque c'è questa cosa qua e naturalmente siamo nel 1920 in grosso modo e quindi il ragazzo deve dire ti sposerò anche se poi è un marinaio e quindi parola di marinaio e se ne va e quindi partito il marinaio la ragazza diventa l'amante del console e la passione è tale che sbagatamente tutte e due presi dal loro piacere la povera bambina abbandonata cade dal terrazzo e muore e quindi viene cacciata lei torna a Roma e si suicida tenta di suicidarsi ma non riesce a suicidarsi un romanziere va a prendere dall'uscita dell'ospedale perché c'è stato tutto il fatto di croniche sul giornale eccetera eccetera e quindi la vuole ospitare ne vuole fare la sua musa ma in realtà vorrebbe anche farne la sua amante lo scrittore ha una certa età quindi insomma gioca un po' su questa situazione e poi allora insomma ritorna il fidanzato che non sapendo che lei è diventata l'amante del console vuole è pentito vuole sposarla ha abbandonato la la quasi sposa che aveva la fidanzata bla 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 e beh lei insomma distrutta inseguita da tutti questi maschiacci il console che arriva lì e che la la svergogna perché tira fuori la verità il fidanzato il romanziere che cerca di fare qualche avance ma non non funziona tanto e insomma lei braccata si suicida per la sentenza di suicidarsi per la seconda volta la seconda volta muore e così finisce Pierandello quindi è una storia meno drammatica insomma un po' piagnucolosa Castri che cosa fa? in realtà tolto il finale di cui adesso dico ma rispetta il testo quindi rispetta il testo ma ha una grande invenzione quella che lui chiamava lo scollamento gesto parola perché per Pierandello sono tre atti che si svolgono tutti nello studio del romanziere lui divide in due tempi ma fin qui poco male insomma è normale che il regista organizzi diversamente il materiale ma il secondo tempo dello spettacolo si apre l'avete visto non so se avete collegato che c'è un letto matrimoniale in centroscena cioè che cosa c'entra con Pierandello un letto matrimoniale lui prende le battute di Pierandello perché lei ha fatto questa messa in scena da vittima che si è suicidata perché il fidanzato l'ha abbandonata non l'ha sposata dopo averlo promesso eccetera eccetera ma arriva il console e la smaschera e c'è un dialogo terrificante fra i due dove il console dice ma sei una bugiarda ma come sei stata la mia amante adesso fai tutta questa messa in scena mia moglie mi fa impazzire hai causato la morte della nostra bambina un disastro bla 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 e Castri tiene tutte queste battute ma fa dire queste battute mentre viene ripetuta una sequenza sempre la stessa identica 4 o 5 volte arriva il console tutto elegante col bastone da passeggio perché è il console insomma entra ha un regalino in mano lo mette su una sedia perché naturalmente nel codice sessuale alto-borghese c'è il sesso ma deve essere camuffato da un fatto talante quindi un regalino per la povera schiava sessuale poi si spoglia lentamente prende i pantaloni li appoggia su una sedia e fa così con la mano cioè che non vuole che si rovini la piega del pantalone poi si infila nel letto dove c'è già lei che per tutto il secondo tempo è sempre praticamente non dico nuda ma sempre una sottoveste chiara quindi c'è un gioco forte di contrapposizioni tutti i maschi che girano intorno a lei tutti i vestiti di nero anche con il cappotto e il cappello nell'interno della casa e lei invece è bianca quindi la vittima e i carnefici e quindi il console entra dentro una sveltina perché questo è interessante perché viene mimato un amplesso molto rapido ma perché lui è un uomo di potere e quindi il sesso va bene ma fino a un certo punto non è che possa perdere tutto questo tempo poi esce dal letto si riveste con calma esce e poi rientra quindi per 4-5 volte questa allora questo fatto questo scollamento gesto parola di cui Bernardo Castri trasforma immediatamente senza cambiare le battute trasforma quello che era un testo appunto un po' melodrammatico e ottocentesco in un teatro da camera alla Strindberg cioè Castri mi pare abbia messo in scena solo un un testo di Strindberg che è il padre ma in realtà ha sempre guardato a Pirandello e anche a a Ipsen con l'occhio di Strindberg cioè ha capito che Pirandello non è come hanno sempre detto gli studiosi pirandelliani e la ragione e la pluralità essere non essere così e se vi pare tutti questi funambulismi cerebrali ma cioè voglio dire c'è una critica letteraria dei professori accadetici che naturalmente capiscono sempre poco che la mena su questo fatto che Pirandello è una macchina celibe che gira e rigira intorno ai sofismi alla filosofia alla parafilosofia eccetera in realtà Castri ha capito perfettamente e ha orientato quindi anche un po' la critica pirandelliana come ha orientato quella ipsegniana che Pirandello è esattamente come Ipsen come Strindberg e direi anche come Cecco uno capace di andare a fondo nel testo e al fondo del testo c'è lo scontro fra l'uomo e la donna lui tira fuori Castri in questo costruisce naturalmente fa alcune direi piccole forzature perché lui caratterizza questo gruppo diciamo così di predatori maschili il console il fidanzato il romanziere poi c'è anche il giornalista il giornalista in realtà è il secondario ma comunque è un quarto maschio c'è una femmina però che è l'affittacamere perché il romanziere non sta a casa sua ma è insomma affittuario di un affittacamere lui Castri prende questa affittacamere e ne fa una lesbica devo dire genialmente perché ci sono alcune battute di Pirandello dove la donna dice alla vittima insomma a Ersiglia si slacci signorina si slacci cioè sono battute probabilmente per Pirandello non sono affatto nella direzione di una omosessualità femminile ma certamente si prestano e quindi lui crea organizza una riduzione ad unum come si dice riduzione ad unum si dice perché abbiamo cinque figure maschile anche la affittacamere vestita di nero con un taglio del pantalone e quindi c'è una complicità e ognuna di queste figure ha un suo tratto che deve esprimere la violenza sessuale verso la povera vittima e quindi il consul abbiamo detto che è quello che si infila nelle lette eccetera eccetera il fidanzato in realtà ha avuto solo una notte d'amore o di petting che sia stato e allora c'è un'immagine rapida in cui lui si abbassa i pantaloni e rimane con questi pantaloni del primo novecento che sono buffi forse se ricordo bene aveva anche la giarrettiera perché allora gli uomini avevano anche la giarrettiera e fa un piccolo amplesso in piedi veloce che corrisponde alla sua storia con lei che è stata di una notte sola e il povero romanziere invece non ha ottenuto nulla e allora viene mimato un gesto autoerotico del vecchio che è un vero che è segnale e dieci milioni ma comunque allora direi abbiamo capito come lavora Casta il finale cambia questo è vero nel senso che per Pirandello finisce con la morte della ragazza e invece lui qui si opera con la logica del teatro di ricerca immagina non inventa delle battute ma immagina un movimento rotatorio di queste cinque figure queste specie di corvacci tutti vestiti di nero con cappotto cappello che girano intorno a lei morta sul letto Tessari ha fatto una bella recensione di questo spettacolo e aveva detto è la vittima sacrificale il letto è il luogo del sacrificio della donna ignuda questo era il titolo della recensione di Tessari e quindi girano intorno piangendo ma in realtà facendo come dire ipocritamente piangendo poi piangendo piangendo piangono sempre di meno e poco alla volta c'è un cicaleccio diciamo così si scambiano come dei saluti alla fine di un funerale e poi alla fine addirittura ridono cioè il discorso è una società borghese di vincenti di predatori rispetto alla vittima che naturalmente è una ragazzetta di vent'anni socialmente modesta perché fa la maestrina fa l'addetta della bambina del consul eccetera eccetera ma la cosa geniale è che Castri in questo modo tira fuori dal testo un elemento stringberghiano che c'è nel testo perché c'è una battuta terribile degna di Strindberg in cui il consul le dice ma tu che cosa credi le dice proprio in faccia ma tu che cosa ti immagini tu per me eri un momento di ozio e di vizio ma io avevo altre cose da fare perché naturalmente lui è la visione che c'è un mondo di maschi che la società è fatta per i maschi per il loro lavoro per la loro carriera e che si realizzano nel lavoro e quindi va bene e il sesso è uno svago un momento di ozio un momento di vizio e quindi viene viene ributtato allora questa era l'idea secondo me importante di Castri cioè io dico regista professore perché lavorava con gli strumenti del docente che sappia fare il suo lavoro cioè che penetra il testo e scava in fondo lo dice bene in maniera un po' veloce nei pezzi di intervista che abbiamo sentito ma insomma lui tira fuori un'interpretazione nuova dai testi almeno negli spettacoli più riusciti non dico che tutti siano tassi però questa è la prima fase quella che lui chiamava il lavoro di drammaturgia cioè di scavo nel testo poi c'è l'elemento nuovo veramente registico e questo lo dice diverse volte in altre interviste o altri scritti occasionali la regia è invenzione di immagini cioè mentre il professore universitario e il regista Castri fanno lo stesso percorso di indagine e di scavo nel testo per tirare fuori un'interpretazione nuova del testo poi però il professore si ferma lì il regista deve andare avanti deve tradurre in immagini ma queste immagini devono essere concatenate devono essere coerenti l'esempio se mi mancano cinque minuti forse riesco a dirlo l'esempio più illustre è la trilogia della veleggiatura ma la trilogia della veleggiatura è la storia non di una ma anche di una passione che improvvisamente prende Giacinta che si è impegnata con un altro e in realtà scopre durante la veleggiatura che vorrebbe sposare un altro ma è anche una storia di soldi nel senso che Leonardo si chiama Leonardo non mi ricordo più Leonardo ha buttato via i suoi soldi ha scialacquato con le sue billeggiature e quindi è disperato e pensa di risolvere i suoi problemi sposando Giacinta perché il padre gli ha promesso 8.000 scudi di dote ma al momento finale anche Filippo il padre di Giacinta che è un altro spendacione che fa le billeggiature costose scopre e non ha soldi quindi sono due storie in cui il sentimento è un pezzo di una complessità che è anche di tipo economica allora Castri a differenza di Streller che pure fa una trilogia eccellente scava in questa direzione e che cosa arriva a quale conclusione che secondo me anche qui è estremamente originale che il colpevole è il padre perché tutto sommato poi Giacinta accetta di sposare quel disgraziato senza soldi perché è stata data la sua parola perché c'è una etica borghese la parola data la scrittura che è stata fatta eccetera eccetera allora Castri inventa tutto un sistema di immagini sul cibo quanti minuti ho? due minuti tre minuti tre minuti non faccio tanti esempi arrivo alla fine Castri ci mostra continuamente questo personaggio del padre che mangia che beve che non si toglie addirittura all'inizio nelle smanie lui arriva con un plateau su cui ci sono brioche e cioccolata e la figlia arriva e gli ruba un pezzo di 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 brioche se lo metti lo intinge nella cioccolata se lo metti in bocca lui arriva e le strappa cioè quello che ha già mangiato non può strappare ma quello che è ancora sulle labbra glielo porta via perché perché il messaggio è il personaggio del padre è così crudele che non si toglie il pane di bocca per la figlia e siccome potrebbe dare la dote ma dovrebbe dare la dote prendendola a prestito al 4% e non ci non ci pensa nemmeno se ne strafrega della figlia e quindi accetta la proposta di un amico che dice ma tu non gli dare neanche una lira di dote in contanti gli dai il possedimento che hai a Genova dove intanto non ti rende nulla perché l'amministratore è un ladrombolo li mandi i due sposi a Genova e così se ne occupano loro e questa è la dote e lui è contentissimo e lo dice se posso risolverla così io vivrò da paladino cioè farò una bella vita quindi Castri immagina tutto un sistema estremamente concatenato in cui ce lo fa vedere il padre che mangia che beve e nella scena finale del ritorno che chiude che chiude lo spettacolo è feroce perché Castri inventa poi mi pare qualcun altro parlerà della scena prospettica insomma Castri faceva insieme al suo scenografo prediletto Balò faceva sempre delle scenografie che erano in parte realistiche ma in parte anche simboliche per cui i tre interni del ritorno avvengono su delle scale tutte in tre case diverse ma c'è sempre una scala perché i personaggi devono stare in bilico perché la scala vale simbolicamente si sale si scende questa è la storia di due che sono precipitate economicamente quindi c'è sulla scala nella scena finale la figlia che piange soffre quasi sviene perché deve partire con un uomo che non ama e Filippo il padre che sta in piedi piantato al fondo della scala guarda la figlia impassibile ha in mano un cartoccio dove pesca dei gâteaux delle caramelle non so bene cose che pesca se le mangia via via ascolta tutte le lamenteli i piante quando la figlia se ne va con l'uomo che non ama il cartoccio ha finito ha mangiato tutto allora lui prende il cartoccio lo accartoccia e lo butta via lo getta via come ha gettato via come ha rigettato una figlia come l'ha rifiutato quindi l'intuizione di Castri è che Goldoni che a scuola e anche all'università ci fanno studiare come un autore di commedie è il fondatore del dramma borghese cioè per Castri diventa il fondatore del dramma borghese dove il denaro conta più dei sentimenti anche paterni grazie 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 mille a Roberto allonge anche per averci molto ben precisato il senso del titolo perché visto così per chi magari non conoscesse Castri per gli studenti le nuove generazioni potrebbe essere terrorizzante il regista professore oddio sarà teatro didattico quindi una noia tremenda è da tenersi alla laga invece abbiamo capito insomma che proprio è l'opposto non è affatto così dunque adesso abbiamo una piccola pausa volevo dirvi che le domande le spostiamo credo avremo spazio alla fine della mattinata prima del pranzo quindi conservate le domande per i relatori che parleranno oggi e ci vediamo allora a primo piano con i convenisti come tato scientifico allora riprendiamo seconda parte del nostro panel abbiamo come canellatore tra un momento per i suoi 30 minuti Gianfranco Pitta grande professor Carvelli c'è un film ma rilassato questo è molto così finisce finire allora Capitta naturalmente giornalista un autore di libri molto belli molto importanti sul teatro italiano europeo è un altro dei testimoni fondamentali del teatro di Castri uno studioso un commentatore penetrante del suo lavoro vi invito se non lo avete ancora fatto lo farete poi magari in questi giorni ad ascoltare sul sito delle Teccherai le interviste di Capitta Castri che sono veramente molto molto belle per i suoi 30 minuti il titolo dell'intervento è Gli intrecci della vita oltre il sipario buongiorno si confesso sono un po' turbato vabbè primo perché sono abituato a scrivere e non a parlare in pubblico e più non ne vedo nessuno perché sono più sui faccia meglio così ma poi perché sono rimasto molto turbato devo dire da quello che ho visto e sentito in più va meglio così mi ha fatto molta impressione quella bellissima in particolare che pezzo di intervista della chiacchieranda tra Castri e due grandi checchi tra l'altro uno credo che Iona credo che sia ancora qui a Torino che vada per il secolo pure quasi di vita è bellissimo perché beh insomma forse sarà stato anche l'onda generazionale del 68 il suo tipo di cultura l'ho frequentata anch'io è stata anche la mia cultura negli anni 70 è stata appunto la prima occasione in cui ho sentito parlare di Castri però la prima cosa che voglio dire non c'entra niente comunque c'entra invece ma insomma non direte dopo lo capirete ed è il fatto che sono molto contento che questa prima iniziativa per Massimo Castri venga presa a Torino da Beato Stabile insieme all'università sono stato molto amico di Massimo Castri una delle eccezioni perché tendo a non fare a non avere rapporti di amicizia con le persone di cui devo scrivere per ovvi motivi e con Castri invece è cresciuta un grande rapporto una grande amicizia per cui ho preso parte indirettamente così a tutto quanto quello che è successo a Torino che io credo insomma sia stato anche l'inizio della fine non solo della sua carriera poi anche della sua vita perché è cambiato dopo quell'esperienza non è più stato lo stesso quindi è un buon segno che in qualche modo Torino rimedi tra virgolette tutto questo creando il primo luogo appunto la prima sede di documentazione di verifica di fruizione anche di goduria a rivedere Castri e anche i suoi spettacoli scusate non sto piangendo sono confruttore però e mi ha turbato poi finisco con l'autobiografia mi ha turbato sentire Massimo parlare appunto della politica cioè il rapporto di un intellettuale non siamo abituati insomma a tanta sincerità quando un intellettuale un artista parla del suo rapporto con la politica con il potere io sono diventato amico di Massimo Castri dopo c'era questa specie di rito quotidiano a fine anni 90 e poi nei primi anni di questo secolo dopo il fattacci di Torino diciamo così che lui appunto ogni mattina praticamente ci sentivamo lui era un lettore di Repubblica leggeva tutte le prime pagine quindi appunto della politica e poi evidentemente era il suo bersaglio privilegiato per sfogarsi per dire tutto quello che non gli piaceva tutto quello che non andava il PC forse non c'era più era diventato PDS poi il DS fino a PD che era già però ai giorni nostri quindi no no lo dico perché quella lucidità insomma Massimo l'ha sempre avuta e poi invece si è dovuto misurare forzatamente con con quello che è il sistema realizzavo poco fa seduto per sentirlo che tutta questa tragedia sua legata a Torino dove appunto è stato chiamato e dopo un anno per maneggi oscuri lui era molto appoggiato io ricordo l'assessore che era il suo sostenitore poi invece per dei rapporti anche credo poco limpidi fra così chi aveva in mano lo stabile e altri artisti insomma di fatto lui si è trovato come licenziato in casa credo che sia stata una ferita realizzavo oggi sì che poi erano gli anni tanto va a venirlo sono di vetroni ministro della cultura insomma ci sarebbe da scriverli credo un bel romanzo su tutta quanta quella situazione e lo stesso destino toccò a Martone in quello stesso periodo Roma bisogna dire esattamente no è vero è vero poi grazie a Dio Martone ha trovato un bel direttore nuovo qui allo stabile e Castri è rimasto insomma un po' abbandonato a se stesso anche perché aveva un grande orgoglio oltre a una maledetta voglia di fare spettacoli quindi però ecco ben venga che sia che sia stato che sia Torino a fare questo dopo questa premessa a cui teniamo insomma che è doverosa è bello anche il fatto appunto veniamo dalla relazione di Alonge di Castri e professore proprio per questo perché lui vedeva era quasi obbligato per Massimo Castri il fatto che il teatro dovesse essere pubblico come la scuola o la sanità cioè espressione della vita civile politica formativa di ogni paese quasi rifacendosi alla concezione del teatro dell'antica Grecia del V secolo a.C. però con sull'onda non solo emotiva ma insomma culturale assolutamente innovatrice che era il 68 e per quello mi ha commosso sentire appunto la sua piaccherata con con i due grandi antropologi del nostro orecchio di quegli anni una funzione civile quella che Massimo dava al teatro che portasse a mostrare nodi e situazioni risolte nei rapporti sociali come affettivi tra le persone rileggendo per questo in questa ottica i capisaldi della scena moderna dato che quello teatrale era il linguaggio che lui verso cui si si aveva portato così mentre saggiava la narrazione cinematografica con quelle fugaci apparizioni con la Cavani con i Taviani poi nel 67 proprio in quei momenti lì si si regava con una relazione con un intervento già pronto al convegno di Ibrea il convegno per un nuovo teatro qui poi i ricordi mi si sommano perché Franco Quadri con la sua snobberia amava ripetere e Castri ridacchiava così minacciando con la mano che diceva Quadri l'ho preso faceva l'autostop alle porte di Ibrea ce l'ho portato io per dire che era una situazione molto carina insomma molto una collaborazione che nasceva evidentemente da una temperie nuova insomma la prima scelta di canto del resto Castri la stava facendo in quegli stessi anni e giorni avendo adevito la comunità teatrale Emilia Romagna dove avvicinò un maestro della regia come Giancarlo Corbeglie di cui diventò anche assistente e che gli fece fare trasformò ho visto le foto in un peloso e seminudo tambur maggiore nel Boizzec di Buchner fatto appunto da Corbeglie il teatro borghese Castri l'aveva studiato ma dall'angolatura politica indicata già con nettezza dalla sua tesi quella con Vito Mandolfi che tra l'altro fu l'unica tesi da quello che ho preso poi dopo il passaggio mi ave fu l'unica tesi che lo trattenne dall'abbandonare la carriera ufficiale della cultura da cui si era distaccato non importava più niente però quella appunto sul teatro politico dove già lui innescava una bomba visto che appunto i tre nomi presi in esempio il teatro politico erano in scato Brecht e sorprendentemente anche Artaud e la cosa quando poi il libro fu pubblicato mi ricordo che suscitò parecchio fastidio dell'intelligenza italiana che era come si dice più più abituata a certe letture della storia qui scatta la piccola suggestione che ho voluto indicare nel titolo di questo intervento il suo teatro è nato sempre più si è sviluppato come analisi e racconto sentimentale sociale e anche generazionale politico e quindi direttamente storico tra i mille dunque le sue creature sulla scena soffrono vibrano vibrano amano e piangono nel suo teatro non si muovono o vivono esseri agnostici indifferenti o frigidi ci sono caratteri sbalzati dalla mano molto duttile di un grande artista e sarà interessante sentire quando è domani i suoi attori che raccontino qual era il processo registico con cui lavorava sul di loro fino a che trasferisse il sentimento che lui insufflava nelle interpretazioni in questa sua coerenza e approfondita conoscenza della grande tradizione teatrale del novecento Castri è stato con Ronconi colui che in teatro ha portato concretamente la modernità del nuovo teatro aperto nel sipario del secolo ventuno ora è andata via Rosanna Bucci poi glielo racconterò anche strego ovviamente faceva parte di questo rinnovamento ma il fondatore del piccolo ha sicuramente compiuto una rifondazione che si è completata anche biograficamente strego nel 98 nel secolo scorso io facevo il ginnazio di evito non voglio fare autobiografia facevo il ginnazio quando il suo Galileo così osteggiato così sconfiggeva per sempre anche in Italia l'aura devozionale consolatoria del teatro negli stessi anni peraltro sempre per me ragazzo che ero però già in bordo di teatro dal ginnazio e anche da prima erano gli stessi anni in cui l'ultima compagnia dell'antica italiana la mitica del rigiavarmi esalava le ultime battute nel teatrino dei gesuiti dove faceva teatro al borgo vicino San Pietro detto questo è un fatto che Castri abbia sempre sofferto il fatto che Strayler non avesse mai voluto i suoi spettacoli dal piccolo che è una cosa vera credo che neanche gli spettacoli di Ronconi siano mai andati ospiti di Strayler però insomma su questa cosa appunto del divieto a Castri giravano delle leggende così come dire delle voci che insomma lasciano stare il teatro e anche il luogo dei luoghi comuni e delle leggende metropolitane allora insieme a Ronconi Castri dopo gli esploati storici di Strayler di Viscot ha dissipato fumi e obblighi di incenso della scena italiana con una sorta nel senso proprio di rigidità di fedeltà eccetera con una sorta di rigida invece fedeltà al testo e alla scrittura scenica a differenza di Ronconi che invece ha usato spesso testi letterari o sceneggiature cinematografiche con base dei suoi spettacoli lui ha fatto sempre solo testi teatrali però lavorandoci di scalpello e di tolcia si potrebbe dire dentro il senso delle parole e nel capo degli attori che lo interpretavano scoprendo nel senso vitale e complesso facendo emergere il valore civile e sociale da una storia d'amore o di perdizione da una tragedia classica come dai testi del maggior novecento e perfino dall'amatissimo Goldoni come prima ci esemplificava il professore da longe che non era più appunto un buon tempone da salotto in maschera come nella prevalente tradizione ancora appunto negli anni 80 del vecchio grande baseggio invece c'era stata certo anche Streve che ha fatto dei goldoni memorabili ma molto legati a una sua ottica personale insomma le baruffiche azote insomma era stato uno spettacolo meraviglioso che ho visto anche quello da ragazzo però appunto non c'era ancora proprio la chiave intellettuale che Castri è riuscito ad imporre si oramare De Bottose Finio Carnevale e su questa battuta ricidiale i rustichi docent da allora prima che la stessa trilogia della villeggiatura diventasse con lui un ampio affresco che in un lavoro durato tanti anni dai tempi di Costa Ovest come diceva lui e dove io avevo avuto la fortuna anche di vedere le prime applicazioni girando per i teatrini della Costa Toscana che dall'analisi di quelle vacanze di benestanti aspiranti o simulanti vari dispiega ragionamenti e conclusioni degne di un saggio di economia politica tracciato chiarissimamente dai due giovani promessi sposi e dal composito mondo che si muove attorno a loro e qui tocco l'altro argomento d'altra parte ci sono i responsabili qui davanti a me scambito dal tempo che implacabile in realtà no perché ma l'ho ancora non è arrivato arrivata stasera insomma pensavo alla tecnica fra virgolette di cui si serviva Massimo Castrici per i suoi spettacoli e dicevo del tempo della villeggiatura scandito non so se chi si ricorda chi l'ha visto il tempo procede implacabile come si rivela l'arte di Balot ovvero la meridiana che ci mostra il tempo scorrere sulla parete della villa delle vacanze durante lo spettacolo cambiava grazie alle luci cambiava l'orario ed era una scoperta pazzesca per me spettatori non aveva mai visto una cosa del genere è stato un regista prolifico Castrici anche se si lamentava sempre quasi così fra schermirsi e schermarsi che non gli fosse concesso di realizzare tutti i progetti che covava eppure è sempre stato capace di stupire e spesso spiazzare i suoi spettatori che ogni volta uscivano dei suoi spettacoli interrogandosi sulla complessità di problemi scelte estremismi inettitudini tenerezze che i suoi personaggi agitavano e biflificavano spesso comunicando dei sentimenti alla platea come non sempre avviene la commozione nel senso doppio della capacità di provarla e la capacità di trasmetterla ha segnato il lavoro dei suoi attori e contemporaneamente le reazioni dei suoi spettatori commozione ma anche sorprendenti flash visioni che comunicano più delle parole da grande teatrate proprio non semplici effetti ma elementi ambientazioni che si fanno drammaturgia e immediata chiave di lettura che danno un senso nuovo a testi antichi anche di tipo molto diverso faccio tre esempi a caso che a me spettatore sono rimasti nella memoria è stato citato prima Rosmersol i due ambienti in cui convivono e si parlano separati da una parete che era degli esposti e Tino Schirinzi i soli due personaggi che rimangono del cast della distribuzione originale evocando l'immagine che quella casa Rosmers sia come una vecchia grande radio di radica di quando io ero bambino di 60 anni fa e quelle che avevano da una parte il suono l'applicatore dall'altra e i comandi e la sintomia tanto che sembrano quasi che appunto che attraverso la radio si sentano i due sono i due piani della casa non a caso l'idea di Massimo corrispondono ai due piani della casa di John Gabriel Borkman dove c'è un sopra e un sotto Borkman sta al piano di sopra rinchiuso e isolato e però quei rumori o i passi della bambina quando sale influenzano la scena che avviene di sotto le reazioni e viceversa una grande attenzione cioè immagini storiche per la mia vita di spettatore perché mi aprono appunto orizzonti e letture nuove una cosa ancora più impressionante uno spettacolo che credo sia stato visto pochissimo le trachinie le trachinie è una tragedia che non si fa mai e appare che a Scoleto con quelle due botole al centro della scena che sembrano ospitare e ogni volta risucchiare quasi verso un sotterraneo centro del pianeta spostamenti sparizioni psicofisiche lungo più le scale che si supporga che uno si immagina a chiocciola o se non altro a spirale perché i personaggi proprio mi ricordo Paola Mannoni che scendeva e sparita era una cosa assolutamente inquietante e quindi spostamenti psicofilici della memoria dei personaggi che ne vengono inghiottiti quasi un trattamento più o meno terapeutico per i nodi di sangue e potere che quelle mitologie viventi Eracle e Dejanira le parole di Sopro che insomma diventano quasi una schietata seduta psicanalitica ed è anche lì un'idea geniale poi al massimo si sa se la facevano l'analisi quindi aveva dimestichezza ma con questo tipo di processi però insomma quelle trachine io non le avevo mai viste prima e non le ho mai viste dopo per mettere trachine è quel ricordo di una cosa che si scava che si scava nell'animo nella memoria e da cui escono cambiati i destini dei personaggi insomma cosa tragicissima la fine della famiglia di Eracle e Dejanira allo stesso modo un altro esempio ma perché mi dà l'idea dello spessore insomma della regia di Massimo l'ambientazione dell'orgia pasoliniana dentro una bacinante distesa di un prato colmo di fiori un cimitero russureggiante dove le vicende erotiche e interpersonali che i personaggi dicono la briglia sciolta quasi risuonano in una sorta di asincrono rispetto all'ambiente davvero inquietante forse anche spaventoso per il senso di minaccia estrema che comporta mi ricordo che la mia amica Laura Detti che pensavo di essere la depositaria unica in qualche modo di Orgia insomma guardò con molto interesse e mi piaccicò e mi diceva sì sì è una cosa molto interessante sono solo pochi esempi se ne potrebbero raggiungere Africa e di risparmio ho una visione a Trieste bisogna andare a vederla della famiglia Rothenstein fatta con la regia di Massimo c'era Diorio Piero Di Giorio come protagonista che erano tra tutte le congiure le frustitudini che avvengono e che stava come abbarbicata in cima a una costruzione di scenografia qui è sempre balocche appunto poi voglio sentire come come attingevano alle indicazioni di Castri per realizzare queste immagini che che insisto a me spettatore mi sono rimaste mi sono rimaste impresse no? però perché? perché bastano a richiamarci alla necessità di altre visioni e altre applicazioni altre elaborazioni da applicare al teatro di Massimo un teatro in cui viveva in cui la stessa la cui sfera non ha mai conosciuto limiti questo è uscito fuori anche da quello che abbiamo sentito no? da quello che dicevano ancora di più nelle interviste se è vero che uno dei primissimi testi di cui si celebra la sua messa in scena è il debutto drammaturgico di un altro autore geniale anche questo è curioso cioè Massimo Castri che vediamo sappiamo beh uno dei primi testi che ha realizzato a Brescia che ancora non era il teatro della loggetta di Mina Mezzadri fu la fantastica visione di Giuliano Scambia che insomma era sconosciuto stava a Trieste a fare Marco Cavallo che si addirittura poi il simbolo l'immagine della chiusura degli ospedali psichiatrici con Basaglia e che è rimasta poi un'altra figura del suo destino non lo so insisto rivendico che io sono prima di tutto uno spettatore li ho conosciuti tutti e due dopo e c'era un curioso rapporto fra un poeta assoluto no? sì molto realistico molto materialista perché insomma poi parlava di cose molto concrete però così sognatore grande poeta l'aveva fatto come era Giuliano Scambia e la concretezza e la complessità della messa in scena di Massimo Castri abitavano quasi di fronte per cui si andava a trovare uno incontrava l'altro in fondo a via dei pilastri quasi al mercato di Sant'Ambrogio dove tra l'altro Massimo Castri aveva questa casa l'ultima casa dove ha vissuto e dove è venuto a mancare aveva alla fine della casa un giardinetto piccolo piccolo al cui centro c'era una palma un albero di palma che era altissimo sono molti metri e che in cima aveva appunto i suoi rami di palma che oddeggiavano sulla cubola della sinagoga di Firenze non voglio fare una facile poesia da quattro soldi però perché poi danno dimensioni come un uomo come Castri come un artista che è stato capace di mettere in scena così i massimi tormenti e i massimi scontri e anche le massime come dire i massimi sentimenti e poi il nostro estese isolato appunto con questa palmetta che sventolava a fianco alla sinagoga e da un artista così raffinato e colto come Castri è stato non ci si aspetterebbe tanta concretezza e precisione nello svelamento che le parole più alte che la drammaturgia gli ha prodotto nei secoli possono comunicare in maniera immediata a un pubblico composito quanto diremmo oggi generalista perché qui è l'altro grande merito di massimi di aver avuto di essersi fatto capire con il suo teatro che era appunto complesso e maledettamente bruciante dove noi teorici possiamo mancare individuare ma era anche assolutamente qui vi risparmio un'altra cosa biografica insomma ve lo riscrivo solo il titolo il primo spettacolo importante di Castri che io ho visto al teatro argentina di Roma era La vita che ti diedi con una strepitosa Valeria Moricovi io avevo cominciato a scrivere quindi andavo a teatro non ci voleva venire mai nessuno con me quella volta non so perché portavo uno spettatrice al canso mia madre che non era abituata ad andare a teatro e mi ricordo il grande turbamento di me figlio a fiacco a mia madre perché anche quello è un testo un testo fantastico cioè molto denso e Castri era specialista nel usare il cacciavite fra una parola e l'anatra per farlo uscire fuori chiusa parentesi biografica perché questo vale anche per gli autori più difficili qui ho un altro ricordo indimenticabile e mi dispiace che lei non sia qui oggi lui ha messo in scena Odom von Orlach per cui mai era stata rappresentata in Italia e mi era assolutamente sconosciuta fede, speranze e carità attraverso invece l'interpretazione io l'ho segnato palpitante molto più complessa perché c'era tutto dentro di Stefania Felicioni che poi ha voluto smettere di far l'attrice e mi dispiace moltissimo lo spettacolo ebbe un successo considerevole spettucritico per molte spettatrici di amori complessi illusori felici macinati nel mezzo della bufera della storia allo stesso modo attraverso un attore fino a quel momento per farvi l'esempio di come era Cavace Castri di usare l'attore come potenziare la sua macchina espressiva quasi per opposto mi è venuto in mente di citare come un attore che era soprattutto una piccola start televisiva Ugo Bagliai e attraverso di lui sono cito fuori le vicissitudi i dubbi le virtù di un uomo di fronte alle realtà ha preso corpo con lui come raramente che era successo in precedenza il piacere dell'onestà per dire con un attore che era molto lontano insomma aveva fatto la comparsa con Ronconi era giovane ancora nell'Orlando a spingere i carrelli ma insomma e invece poi era diventato famoso per degli sceneggiati e devo dire mi ricordo perfettamente dal teatro Giulio Cesare di Roma che allora adesso è solo un cinema prima era anche teatro fu come una insomma una rivelazione d'altra parte Tirandello come tutto il piacere dell'onestà meriterebbe nel lavoro di Castri una indagine a parte l'abbiamo già capito anche in queste cose che abbiamo sentito stamattina e non basterebbe un libro perché su quei testi sacrami e misteriosi per gli italiani ammiratori del premio Nobel Tirandello il regista ha fatto più che più che una regia o molte quanti titoli affrontati certo da vestire gli ignudi fino all'ultimo quasi inedito che non c'era mai sentito né detto qualunque c'è qualcuno questa è l'ultima scintilla apparsa di Albertazzi ha reso commestibili o almeno più comprensibili e accattivanti quei testi concepiti almeno secondo i critici letterari meno acuti come altari del mistero luoghi di religioso intangibile mistero insomma definitelo come volete comunque sono appunto delle costruzioni così delle geometrie molto misteriose Castri ha alzato a scoperto il velo su quell'italietta peccaminosa e ipocrita che si nascondeva e ludeva dietro le fasce di mitologie e che sotto l'aura del mistero ammantava realtà indicibili inconfessabili perché imbarzanti il nostro regista Castri ha fatto esplodere quel colpo di pistola che non era previsto dal copione che fa giustizia a tutte le mascherature che i laudizi e i suoi degni amici di così essere di pare usano per nascondere la propria piccineria la curiosità insana il decollo di pura facciata per questo il povero Castri ha dovuto affrontare di vieti di fide le denunce degli eredi della famiglia Pirandello perfino De Marta Abba come ultima amore e testiere eredite e re ereditiera del nostro Pirandello ma ha tenuto testa il povero Massimo con la forza della verità ha ridato a Pirandello molti estimatori che prima erano sospettosi potenza della regia e di un grande artista grazie grazie prendo estraggo da questa sua proposta di lettura di Castri il riferimento su Artò che mi permette di introdurre il prossimo relatore Fabio Arca è interessante che dica capita che è una sorpresa un po' una mossa del cavallo di Castri mettere accanto a Brecht e Piscatola anche il nome inedito imprevisto almeno in questo montaggio di Artò ce ne parlerà Fabio Acca che è uno specialista di Artò ha scritto un libro molto bello che si chiama Fare Artò il teatro della crudeltà in Italia l'arco temporale 1945-1970 è un ricercatore si è formato a Bologna ma l'anno scorso e ha partecipato naturalmente a questo progetto nella sua fase di elaborazione ci presenta una relazione dal titolo Castri su Artò grazie Federica sì dunque nel delineare la vicenda che lega Massimo Castri all'universo di Artò cercherò di portare un contributo a un panorama sicuramente denso di riflessioni e di riferimenti ma in particolare mi soffermerò su tre punti che reputo significativi e che a mio modesto parere meritano una rinnovata attenzione per aiutare a chiarire traiettorie secondo me non secondarie innanzitutto il ruolo di Vito Pandolfi nella sua diciamo vicenda personale artistica di formazione Pandolfi uno dei fondatori appunto della regia italiana intellettuale uomo di teatro potremmo dire e come la sua figura si inserisce nella trasmissione del patrimonio artodiano come noto Pandolfi è stato il relatore della tesi di laurea discussa da Castri all'Università di Genova nel 1971 e che poi si è trasformata due anni dopo nel 73 nel noto libro per un teatro politico Piscator Brecht Artò edito dai Nardi e questo ruolo di Pandolfi ci impone di indagare con ulteriore concentrazione il suo profilo di mentore secondo mi soffermerò su come le riflessioni di Castri si inseriscono nel contesto della ricezione italiana tra gli anni 60 e gli anni 70 delle pratiche del pensiero di Artò e infine come Castri avrebbe voluto ulteriormente rilanciare la propria tesi sul teatro politico di cui la figura di Artò era parte integrante e oggi su questo aspetto è possibile fare delle ipotesi molto circostanziate proprio in ragione del convegno che ci vede qui impegnati e in particolare grazie allo straordinario lavoro di archivio realizzato dalle curatrici appunto del convegno grazie al quale è stato possibile rinvenire studiare tra la mole di documenti editi e inediti la bozza originale di progetto editoriale scritta proprio a macchina da Castri dedicato a quell'esplosione di politicità nel teatro nuovo di questi ultimi anni così lo definiva Castri annunciato anche nel libro I naudi del 73 ma poi messo da parte allora in una lettera che segue nella primavera del 71 la venuta proclamazione della laurea Castri non esita a ringraziare Pandolfi e dice grazie al suo aiuto sono riuscito a chiudere questa faccenda della laurea che ancora un anno fa mi appariva alquanto ingarbugliata effettivamente così come emerge anche da altre precedenti lettere a comporre ciò che appare un carteggio comunque piuttosto assiduo tra il docente e l'allievo Castri si dedica alla tesi con una certa discontinuità a causa dei numerosi impegni d'attore ma se da un lato la storia ci ha consegnato l'immagine di Castri come uno studente intraprendente autonomo attrezzato la cui figura come dice allonge è sostanzialmente quella di un'autodidatta dall'altro lato queste lettere sembrano testimoniare tra i due una certa intensità di rapporto intellettuale di scambio informativo di libri letti da reperire un carteggio con chi peraltro Castri aveva scelto come relatore dopo il trasferimento dall'università di Firenze a quella di Genova al quale evidentemente riconosceva se non proprio un pieno magistero una sensibilità utile nel leggere il teatro del suo tempo presente Pandolfi dal canto suo in una lettera del 15 dicembre del 70 indirizzata a Castri cioè nel pieno svolgimento della fase finale della tesi sembra corrispondere a questo sentimento di stima e non manca di sottolineare la qualità del suo allievo meglio di colui che definisce un amico una persona con la quale cito testualmente mi fa veramente piacere avere una corrispondenza tanto che nella stessa incoraggia Castri a raggiungerlo quanto prima a Roma per dargli parecchi libri potenzialmente utili alla sua ricerca e altri consigli per reperirne degli altri insomma Pandolfi si premura nel chiedere al proprio brillante allievo di trovare dei momenti di confronto diretto che però da quanto si apprende dalla già citata lettera di Castri a Pandolfi della primavera del 71 a tesi discussa mai ci furono almeno secondo quello che erano le aspettative di Castri spero di poterle incontrare presto dice appunto Castri c'è soprattutto una cosa che mi dà noia non ho ancora avuto modo di parlare a lungo con lei riguardo al mio lavoro e non ho ancora ricevuto da lei un giudizio su ciò che ho scritto salvo poi dichiarare in seguito immediatamente dopo la pubblicazione del suo libro Perinaudi in una lettera del 6 luglio del 73 indirizzata a Pandolfi che se non fosse stato per lei quel libro non l'avrei mai scritto ma allora al netto di queste intermittenze sicuramente dettate per Pandolfi anche dalla malattia che in quegli stessi anni fino alla morte del marzo del 74 cominciava a consumarne l'integrità psicofisica e ne limitavano l'indipendenza qual è stato l'aiuto determinante ricevuto da Castri da Pandolfi non credo si possa accogliere solo in una proiezione delle consuetudini accademiche della sicuramente funzionale rete di rapporti politici e culturali intrattenuta da Pandolfi piuttosto e mi spingo a dire prevalentemente in quella che con innamorati possiamo definire la sensibilità e l'esperienza teatrale di spicco del relatore oppure con Longhi una evidente sintonia tra Castri e il suo maestro Pandolfi cioè in che cosa? nella sua eredità vivente nelle sue posture critiche e nei suoi saperi militanti mai allineati maturati anche proprio intorno alle figure e ai temi oggetto della tesi e poi del libro di Castri cioè il politico e il popolare nel circuito generato da un confronto non scontato tra Piscator Brecht e soprattutto Arturo Meldolesi ci ha invitato a pensare alla produzione politica culturale di Pandolfi come un insieme di teorizzazioni politicamente inquiete una disposizione alla riflessione sul rapporto tra teatro giustizia sociale e libertà che attraversa buona parte della produzione di Pandolfi sia artistica che intellettuale e si presenta probabilmente a Castri in maniera più o meno consapevole come la prima e più immediata eredità una spiccata vocazione politica attraversa pressoché tutta la vicenda di Pandolfi a partire dalla lotta partigiana abbracciata tra il 43 e il 45 ed è nota poi la passione se non proprio alla devozione che Pandolfi nutriva per Brecht benché di Brecht apprezzasse soprattutto l'equilibrio che il dramaturgo tedesco sapeva trovare in un lirismo poetico laddove Piscator era invece ritenuto più freddo Artaud per Pandolfi si inserisce organicamente fin dagli anni 40 in questa forma di militanza al contempo artistica politica e culturale il nome di Pandolfi nella geografia artodiana in Italia non è attenzione affatto secondario egli infatti è stato nel nostro paese il primo vero promotore e mediatore critico dell'opera di Artaud solo per ricordare un dato fu il primo in Italia a curare nel 47 ripeto nel 47 la pubblicazione del manifesto del teatro della crueltà scusate costui fu uno dei primi in Italia di Pandolfi a riconoscere nel destino teatrale di Artaud una chiave di accesso al rinnovamento della scena il confronto con Artaud significava per Pandolfi entrare nello specifico spostamento di valori che egli stesso andava elaborando nella propria concezione di teatro verso l'attore verso l'esperienza dello spettatore verso la regia intesa come interpretazione critica di un nuovo livello sociale che tenesse conto dell'incontro spesso difficile tra necessità individuale e progettazione politica in poche parole verso la radicale ricentralizzazione del teatro rispetto alla dialettica rappresentata da Artaud tra esperienza individuale e collettiva tra quello che Pandolfi definiva il biologico e lo storico tra due generi così insopprimibili e così opposti di esigenze e non stupisce allora la manifesta vicinanza di Pandolfi all'avanguardia teatrale italiana di cui in tempi non sospetti fu uno dei primi mappatori questo crocevia di stanza e come incarnato i Pandolfi nella sua figura di mentore e anche l'accostamento di Brecht ad Artaud che all'uscita del libro di Castri apparve alla comunità teatrale del tempo come la scelta più paradossale così la definì il germanista Cesare Casis a sottolineare quella che innamorata e giustamente definito la singolarità irregolare di Castri in realtà era già stato anticipato e più riprese dallo stesso Pandolfi egli aveva intravisto in questo binomio qualcosa di gravido di futuro come ha evidenziato Marco Martinelli se Brecht pur rappresentando per il teatro del tempo l'opera più completa e coerente in chiave di insorgenza storica si risolveva per Pandolfi in una faticosa elaborazione razionale da dove Artò con la sua detonante irrazionalità scenica incarnava l'esigenza biologica nel gioco dialettico dei contrasti che formano l'esistenza una contraddizione feconda che secondo Pandolfi stava alla base sia del teatro che della vita e che nel suo volume spettacolo del secolo del 53 veniva addirittura esposta nelle pagine conclusive del libro così dice Pandolfi come il nodo da sciogliere per il futuro tant'è che molti anni dopo in quel fatidico 67 che avrebbe indelebilmente contrassegnato la storia del nuovo teatro in Italia Pandolfi indicherà il living il living theater specialmente per il lavoro fatto con Antigone come il tentativo più autenticamente toccante necessario di intrecciare gli opposti Brecht e Artò lo storico e il biologico il politico e l'esistenziale in un orizzonte di interesse per ciò che di più vitale proponeva allora la scrittura scenica contemporanea fuori dalle secche dell'interpretazione del testo fu dunque quella di Castri vera anomalia su questo vale la pena soffermarsi ma non per attenzione dei potenziali dell'originalità ma al contrario per motivarne gli interessi e le scelte in un orizzonte organico e di confronto con la comunità stratificata e generazionalmente articolata con cui egli aveva a che fare tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 a partire però proprio dal suo autorevole relatore nel tempo che abbiamo qui a disposizione non mi è possibile restituire il complesso di vartito che la figura di Artaud ha comportato tra anni 60 e 70 ma relativamente a Castri è importante sottolineare l'insofferenza del futuro regista rispetto alla proiezione politica definite dagli ambienti più radicali dell'antagonismo di sinistra del movimento e della controcultura che trattavano l'autorevole come vera e propria icona di riferimento in questo senso pensiamo a quanto hanno inciso anche nel dibattito italiano non solo rivolto al teatro le riflessioni di Blanchot Foucault Derrida oppure quelle del gruppo di intellettuali francesi rinitosi intorno alla rivista del Kelly posizioni che traducevano in chiave culturalmente rivoluzionaria l'irriducibile dimensione politica del corpo evocata da Artot Castri parla tal proposito di cattura ideologica e di mimetismo artodiano a sottolineare quella che per lui era la problematica assunzione di una prospettiva e di un linguaggio eccessivamente appiattiti sul paradigma artodiano e sulla dimensione di irripetibilità del suo discorso l'interesse di Castri è piuttosto rivolto al selezionato perimetro del teatro nel 92 il dibattito pubblico Castri ricorda l'epoca in cui nasceva quel libro l'epoca in cui faceva l'attore era quella di una cultura da guerra fredda era un'epoca in cui al piccolo teatro non si sarebbe rappresentato Beckett perché lo si percepiva come un autore di destra è chiaro allora continua a Castri il rischio grave a mio parere che si stava correndo il rischio della sclerosi perché una consistente eredità culturale del novecento veniva dissipata la politicità al centro della tese e poi del libro di Castri riguarda in particolare l'urgenza di indirizzare verso il superamento di un teatro politico inteso come un problema di contenuti come agitazione e propaganda percorsi piuttosto nelle pulsioni linguistiche la funzione trasformativa del reale del sociale e in questa prospettiva Artaud rientrava lui dice a pieno titolo nel tema in questione si trattava di uno scontro per Castri in gran parte interno alla cultura di sinistra italiana troppo spesso devota e piegata secondo il regista ai pietrificati schemi del razionalismo e del realismo socialista il racconto di Castri coglie effettivamente il clima conflittuale di quegli anni diviso nettamente nei due archetipi del razionale e dell'irrazionale una sfida in cui l'universo ascrivibile ad Artaud gioca un ruolo assai importante a cui attenzione non è esente neanche per esempio un intellettuale illuminato come Pasolini quando con la sua nozione di teatro del gesto o dell'urlo contenuta nel suo manifesto per un nuovo teatro del 68 utilizza questa immagine artodiana simbolo di liberazione caotica e irrazionale come il segno distintivo di quella intera generazione del nuovo teatro sintetizzata esplicitamente nella sequenza in progress Artaud living Grotowski bene a questa altezza cronologica la percezione di Artaud nel dibattito italiano era effettivamente depositata in maniera potente pervasiva proprio nel modello vivente di teatro generato dai fondamenti teorico-esperienziali che negli anni 60 avevano attraversato la realtà teatrale italiana ovvero il living Brook Grotowski Lodin di Barba questa spettacolarità si era imposta nel decennio come una sorta di cultura teatrale della crudeltà nella quale convergevano le motivazioni degli artisti e la ricezione dello spettatore supportando teorie riflessioni caricando l'universo artodiano di una altrettanto importante dimensione critica che viaggiava accanto ai suoi testi scritti e gli artisti di teatro sensibili alla crudeltà artodiana avevano introiettato nel proprio lavoro un confronto serrato con le categorie del politico di cui Artaud stesso era in qualche misura esito e garante la scelta di Castri dunque di inserire Artaud in un'analisi delle matrici novecentesche del teatro politico è in realtà perfettamente coerente se non proprio dovuta pur nei limiti di un Artaud sostanzialmente costretto nel recinto del teatro il suo doppio e a partire anche da una lettura marxista della società come diceva lui divisa in classi e basata sullo sfruttamento egli riparte dalle intuizioni in realtà di Bandolfi rilanciandone a un nuovo livello l'idea della indivisibilità di due processi quello biologico e quello storico quello individuale e quello collettivo la trasformazione in teatro della sostanza umana dell'individuo passa dunque per Castri con Artaud attraverso un intervento che rigetta ogni forma consolidata di realismo di naturalismo di lettura psicologica del fatto teatrale di dogmatica centralità del testo e della parola per esplorare piuttosto tutti quegli aspetti che nella relazione scenica esaltano quello che gli chiama realismo prospettico progetto aperto di linguaggio invenzione continua di forme di aggressione del reale così definisce e questo evidentemente con uno sguardo rivolto al teatro come pratica e non solo come speculazione accademica una urgenza che in quel periodo ha a che fare con un altro ordine di pratiche prossime a Castri ovvero la sua condizione di attore e in particolare quella che tra il 68 e il 69 cioè nel momento stesso di preparazione e definizione del lavoro di tesi lo vedeva impegnato con la comunità teatrale dell'Emilia Romagna diretta appunto come abbiamo detto prima da Giancarlo Cobelli uno dei pochi uomini di teatro cito a longe da cui gli sembra di aver imparato qualcosa tale esperienza aveva messo a contatto l'ancora giovane Castri con un nuovo concetto di compagnia o meglio di gruppo in cui l'attore non era chiamato solo a un rinnovamento formale ed estetico in armonia ideologica con una generazione tesa al cambiamento la comunità era basata su forme di autogestione che mettevano in discussione le consuetudini le gerarchie produttive dove l'attore era chiamato un incarico di responsabilità volto alla creazione di strutture operative alternative al teatro ufficiale in chiara sintonia e continuità con gli obiettivi maturati in seno alla lotta per un nuovo teatro l'attore di cui parla Castri è perciò coinvolto a un doppio livello quello espressivo pronto a confrontarsi con le sperimentazioni più avanzate sulla corporeità provenienti dai modelli forniti soprattutto dal living theater e da Grotowski è quello più propriamente organizzativo e gestionale dove l'attore è cito Castri un operatore culturale responsabilizzato in senso politico ne emerge un quadro dell'attore di protagonismo ma calato in una dimensione più allargata e collettiva con la consapevolezza dell'intensità sociale che pervade le leve trasformative del teatro approfondire i temi del politico allora significava per Castri indagare su questioni in qualche misura operative utili centrate anche sulla possibilità di creare processi di lavoro spazi e circuiti alternativi un nuovo pubblico in questo senso Castri pone un particolare accento su come Artaud avesse dato l'importanza nella propria idea di teatro proprio al ruolo dello spettatore il carattere intensamente partecipativo di cui Artaud investe il pubblico il coinvolgimento fisico ed emotivo di quest'ultimo generato dalla rottura della storica passività con cui ne viene interpretato il ruolo divengono in Castri il viatico per ipotizzare una reinvenzione dell'individuo sociale ma non solo in questa visione l'attore costituisce il perno di una elaborazione collettiva dell'evento teatrale come festa-assemblea funzionale superamento dello spettacolo dice Castri si vede a questo punto come la teoria teatrale di Artaud sbocchi in una visione assembleare o tendenzialmente assembleare dell'evento teatrale Artaud quindi fino ad allora percepito come l'esempio più estremo di una concezione individualistica dell'esperienza teatrale diviene qui invece il ponte su cui edificare una sorta di nuovo patto russoiano attraverso cui impostare alcune traiettorie che all'inizio degli anni 70 proponevano un diverso livello di socializzazione dell'esperienza teatrale organizzata nella forma di aggregazione dal basso collettiva radicata negli spazi della comunità in cui non compaiono i tipici vincoli di divisione del lavoro che caratterizzano creazione composizione e distribuzione dell'evento teatrale come merce spettacolo ma torniamo al 72 73 perché parallelamente alla pubblicazione del libro in Audi Castri lavora a un ulteriore progetto editoriale pensa a un secondo volume che in netta continuità con quello precedente sia per temi che per griglie interpretative possa rilanciare approfondire la questione del teatro politico ma ancorandola stavolta sebbene ancora in una chiave comparativa con il novecento direttamente alle pratiche del teatro vivente a illuminare ancora una volta quanto Castri fosse coinvolto interessato alle dinamiche del nuovo teatro e questo libro nelle intenzioni dell'autore doveva appunto restituire il forte fermento politico che animava il teatro internazionale e il suo contemporaneo in particolare nel mondo anglosassone e nell'ambiente politicamente acceso dell'America Latina ma oggetto di interesse del volume dovevano essere in realtà quali Peter Brook Grotowski Living Theatre Open Theatre Bread and Puppet Teatro Campesino San Francisco Manchow con anche accenni ai fenomeni dell'happening e dei mixed media col proposito di individuare i nodi comuni di una diversa politicità rispetto al tradizionale teatro politico di sinistra a cui siamo abituati tuttavia questa analisi non doveva essere portata avanti attraverso una mappatura per medaglioni diciamo cioè ad esaltare ad esaltare isolatamente gruppi uomini linee o tendenze bensì tramite la presentazione criticamente circostanziata di quelli che lui definisce certi nodi problematici fondamentali con anche l'idea di dedicare attenzione un capitolo al teatro politico in Italia a quella sorta a causa di quella sorta di deriva italiana che non senza insistenti ancora una volta cenni polemici castra e taccia di cristallizzazione mortuaria chiusa in un dogmatismo estetico i cui esempi erano diciamo da fo in poi in questa impostazione in realtà emergono dei percorsi esemplari a soffragare i temi centrali del volume quello del living prima di tutto proprio in virtù del suo gradiente artodiano in ciò che spinge progressivamente il gruppo di Beck e Malina ad abbracciare una scrittura scenica collettiva fortemente ritualizzata che conduce a quello che lui definisce il rifiuto della rappresentazione verso il teatro gesto reale e Paradise Now diciamo era il paradigma in qualche modo di questo che continua al rifiuto totale del teatro verso qualcosa che è negazione del teatro cioè diciamo noi al superamento della rappresentazione dello spettacolo in sintonia con quella linea primo novecentesca che da Stanislaschi porta ad Artaud e di cui fanno parte tra gli altri anche Bruch e Grotowski figure quindi che in una ideale coincidenza tra arte e vita sono accomunate dalla volontà di trascendere la stretta logica del prodotto spettacolare per osservare quanto sta alla base di una comunicazione autentica in stretta relazione a ciò che definisce l'uomo sia come individuo sia come soggetto sociale e a testimonianza di tale prospettiva Castri in questi suoi appunti si sofferma con spiccato interesse sulla questione del gesto reale così lo definisce dell'attore contrapposto prima a una condizione mimetica proprio come consapevole radicalizzazione della linea stanislaschiana confrontato poi al tema della precisione e dell'efficacia cioè all'organicità della partitura ovvero e sono sue parole il segno crudele di Artaud una prospettiva a conforto della quale Castri inserisce anche un'altra linea di lavoro esemplare inaugurata da quelli che egli definisce Grotowski e i suoi rampolli ovvero quella dell'attore Santo e Asceta che apre però a un campo importante di problematizzazione del teatro politico quella che lui definisce una delicata biforcazione intorno alla quale per Castri si gioca la partita analitica più importante tra il dentro e il fuori del teatro tra il luogo così dice tra il luogo in cui si agisce e il luogo in cui si contempla egli nella sua idea di politicità che investe per modificargli la percezione e i modelli di comportamento dell'attore e dello spettatore insieme non manca qui di evidenziare quella che gli coglie come una sorta di deriva autocontemplativa di un teatro e di un attore che si risolve in un uso interno lo definisce un uso interno a se stesso cioè del pur nobile ma politicamente per lui in efficace perimetro dello spettacolo come prodotto a cui lo spettatore partecipa in forme di condivisioni intense ma solo parziali e momentane la fascinazione di Castri sulla scorta di esperienze fortemente territorializzate come per esempio lui fa l'esempio del teatro campesino è piuttosto ancora una volta orientata al convinto sostegno di un permanente radicamento comunitario del teatro politico dalle rifrazioni artodiane che tende dunque al superamento dello spettacolo e alla contestuale fusione tra attore e spettatore tra operatore e fruitore per concludere la sfida di un nuovo teatro politico insomma si misura per Castri nella volontà di aggredire le contraddizioni di verificare la tenuta di un teatro come espressione di una comunità autentica e concreta scardinando la funzione pericolosamente consolatoria sostitutiva della rappresentazione a cui secondo lui peraltro non era neanche strano il teatro che aveva in mente Artò in questi appunti scritti a macchina Castri dice ma è un'utopia pensare questo sì se pensiamo all'utopia come funzione positiva e politicamente attiva come diceva Castri a noi potremmo dire come dimensione comunitaria in cui sperimentare forme di vita alternative alla cattura capitalistica non tanto come compimento ma come prospettiva come tensione al concreto cambiamento di un piano di realtà mai dato per il modificabile realtà che per quanto invece riguarda il libro immaginato da Castri si sarebbe infranta poco dopo sul suo destino artistico che porterà appunto Castri ad abbandonare l'idea del libro predicarsi completamente al suo fortunato percorso registico grazie infinite anche a Fabio H abbiamo già moltissimi elementi di spunti di discussione per il momento conclusivo della giornata con le domande e risposte adesso saliamo andiamo facciamo la pausa e ci rivediamo alle due e mezza grazie a tutti buon pomeriggio naturalmente ringrazio chi mi ha invitato sono insegnato 22 anni sto nel teatro qui a Torino sono molti arrivini e ho visto anche è un ritorno per me sempre gradito ma anche la simbiosi tra questo teatro e l'università è stata molto finta e molto importante e quindi ritornare qui come sentirsi a casa e quindi ringrazio di avermi fatto tornare a casa anche in questa occasione dunque prima di cominciare il pomeriggio con un video volevo puntualizzare qualche elemento dal dibattito che era messo stamattina dalle relazioni che erano state fatte stamattina tutte molto puntuali molto interessanti in un libro credo del 2014 Franco Cordelli che è uno dei critici teatrali attivi sulla stampa forse credo l'unico ormai o uno dei pochissimi ancora attivi sulla stampa aveva indicato in Casteri il più grande regista italiano e gli aveva messo vicino Ronconi chiaramente gli aveva messo vicino Ronconi ma riteneva che in Casteri culminasse quello che lui chiamava la regia ermeneutica italiana che secondo Cordelli è uno degli elementi più importanti e più caratterizzanti del novecento teatral italiano devo dire stamattina Roberto Alonge parlando di un regista professore Roberto Alonge è un professore regista in qualche misura e quindi erano in perfetta sintonia tutte e due direi anche perché mi ha colpito molto lo scavo psicoanalitico sui testi di cui nel video poco prima aveva parlato che so Casteri e poi io so bene che Alonge fa effettivamente qualche cosa che è una psicocritica anche lui e quindi l'incrocio fra i due uomini e l'intesa fra i due uomini è profondissima sotto questo aspetto benissimo dicevo già Alonge stamattina metteva in evidenza una regia dei testi in buona sostanza che quasi si opponeva in maniera un po' manichea forse a quella che è il discorso dall'avanguardia e si individuava proprio nel Rosemerso di Casteri il momento forse più critico di trapasso fra questi elementi allora io vorrei portare un elemento inquietante al prossimo dibattito e se dopo Casteri la regia fosse morta non è un'ipotesi mia è seguendo il discorso di Cordelli una fase estetica rilevante importante della storia teatrale italiana finirebbe con Casteri dopo si apre l'epoca se volete postmoderna se volete della performance comunque si apre un nuovo capitolo della storia del teatro probabilmente non solo in Italia segnatamente ma probabilmente di livello generale allora siccome si guarda molto giustamente in questo tipo di convenio all'eredità di Casteri forse è anche il caso di guardare al futuro e da Casteri poi fare una puntualizzazione prospettica su quello che ci attende su quello che sta succedendo capire se questa eredità può sussistere ancora in quali termini io non do risposte e lascio lievitare così la situazione brevissimamente poi devo ricordare qualche rapporto personale con Casteri che come avete capito non era una persona di buon umore insomma era una persona molto semplice da trattare e ho appreso mi erano arrivate varie voci che mi leggeva molto i miei scritti e anche pare che li apprezzasse ci ho detto non mi ha mai degnato di uno sguardo tranne una volta che il professore Allonge che mi ha sempre promosso con Casteri non solo con Casteri ma mi ha sempre promosso e cercava di portarmi avanti cioè diceva ma guarda lui traduce Strindberg ma aveva un'idea di di mettere in scena di Strindberg la casa bruciata e Allonge attualmente premeva Ceperelli salò svedese e Casti era molto tradizionale di Ibsen amava le traduzioni della Rò che è Croce delizia da un sesso Roberto insomma che non ne ha mai amate e ha cercato di cambiare quella tradizione di di Strindberg probabilmente credo che amasse le interpretazioni e le traduzioni di Codignola e nonostante questo Allonge continuava a promuoverli e mi portò mi ricordo a Parma e Castri mi guardava e ogni volta che mi guardava cominciava a canticchiare fra se e se capì che non era giornata insomma per ecco i miei rapporti con Castri sono finiti qui vengo a sapere adesso che nonostante questo in qualche misura nei quaderni accenna spessissimo alle mie linee interpretative ed era così mi era arrivato anche da un suo aiuto regista l'idea è un'informazione che in particolare su alcuni aspetti di Jesse Strindberg insegnare era in particolare d'accordo con le mie cose quindi gli ho raccontato il mio non rapporto con Castri ma forse più importante proprio per questa intermediazione finisce questa parte un po' critica e un po' autobiografica e passo al pomeriggio di lavoro chiedo scusa se alternerò gli occhiali scuri ma sono stato operato agli occhi di recente e quindi no ma non vi preoccupate sono andata alla vista dunque adesso abbiamo un video dai maestri del sospetto all'identità narrativa un percorso filosofico che un po' anticipa in qualche misura l'intervento del professor Martinego che è di carattere estetico diremo adesso ci porremo il problema la filosofia è certo la filosofia sì perché ci sono quell'emario di elementi che anche c'è nel sito abbiamo visto Eros e altri elementi eccetera c'è una ci sono grumi filosofici in questo regista che vanno sceverati e vanno analizzati può partire il video grazie dunque io innanzitutto chiedo scusa perché sono come una specie di scolaro che non ha fatto la lezione oltretutto ho anche dormito poco e quindi chiedo spero che di riuscire a dire qualcosa di chiaro insomma è da ieri sera cioè da quando sono arrivato che cerco di capire l'oggetto di cui si sta parlando in questo luogo mi si dice che si sta parlando dei rapporti tra testo regia tra autore regista o qualcosa di simile a me sembra appunto che l'argomento posto in questo modo forse posto in maniera un tantino meccanica cioè non corrisponde più allo stato attuale della scrittura scenica o meglio della scrittura teatrale cioè di quel fatto complesso che la scrittura teatrale che va ben oltre ormai queste distinzioni che rimandano ad epoche abbastanza lontane da noi comunque dato prendendo per buono il gioco il gioco dei ruoli che mi sembra sia stato impostato in questa sede dando per scontato che io sono un regista mi assumo il ruolo del regista e cercherò di rispondere molto brevemente a questa domanda che mi sembra che ci sia nell'aria cioè che cosa fanno questi mascalzoni di registi nei confronti dei testi che gli vengono affidati ora molto brevemente molto brevemente diciamo appunto che cosa fa il regista con questo testo che gli arriva tra le mani vorrei dare soltanto due o tre provocazioni quasi degli aforismi per poi dopo tornarne a parlare insieme cioè il testo ecco il testo che cosa si fa del testo il testo si guarda con sospetto direi subito ecco non può essere altro che guardato con sospetto perché perché ci si domanda subito dato che siamo figli di questa epoca che cosa significa questo testo è un sistema di segni più o meno complesso qualcosa deve significare non è una domanda peregrina questa perché viviamo in una realtà in cui siamo abituati a considerare segno praticamente tutto quello che ci circonda e non soltanto questo ma siamo ormai abituati per forma mentis strutturata saldamente noi a pensare che ogni altra ogni ogni cosa quindi ogni segno in qualche modo significa qualche cosa che è altro da sé o rimanda a qualche cosa che è altro da sé non fosse altro perché abbiamo alle spalle due grandi letture del reale diciamo per semplificare molto due letture del reale che sono le dominanti a partire dalla fine dell'ottocento ormai c'è la lettura diciamo così materialistica e dall'altra parte invece la lettura psicoanalitica del reale che ci insegnano che tutto quello che vediamo tocchiamo non significa quello che è non sembra non è quello che sembra ma rimanda a qualcosa di altro cioè significa ancora qualcosa di altro quindi queste sono abitudini che abbiamo ci è stato detto e ripetuto che per esempio la parola significa soltanto esprime soltanto celande soltanto in quanto cela esprime abbiamo alle spalle la grande lezione dello straniamento cioè ogni cosa deve essere straniata cioè spiazzata in un contesto altro da sé perché possa esprimere qualche cosa veramente e così via cioè viviamo in un mondo di segni in un mondo in cui tutto significa qualche cosa di altro da sé o rimanda ad altro da sé ecco il regista appunto quindi affronta il testo con sospetto chiedendosi che cosa significa questo testo cosa significa questo sistema di segni a questo fatto direi aggiungiamo altre due considerazioni cioè che viviamo in un'epoca in cui lo sappiamo benissimo non esistono più codici di riferimento non esistendo più codici di riferimento è chiaro che il lavoro del regista sul testo non ha più queste scatole queste gabbie all'interno delle quali è voluto attuare la messa in scena ma esistono delle poetiche estremamente labili esistono dei movimenti di poetica in continuo divenire e anche questo crea un rapporto con il testo che è in divenire che è un rapporto dinamico un rapporto di illuminazione reciproca permanente viviamo in un'epoca in cui domina la dimensione meta cioè metalinguaggio metateatro cioè ogni cosa deve essere guardata con uno sguardo che sia sulla cosa sia appunto sulla cosa alla seconda in qualche modo e così via questo mi sembra sia un po' l'abc dentro il quale deve essere inquadrato il rapporto dico che questo cattivo questo padrone questo demiurgo del palcoscenico che è il regista appunto il rapporto che stabilisce con il testo ed è una prima indicazione di lavoro una prima indicazione una prima provocazione diciamo allora cos'è il testo da un altro punto di vista potrei dire che il testo per il regista è diciamo potrebbe essere appunto la necessità attraverso la quale si realizza la sua libertà diciamo con una formula gramsciana spostata in un terreno abbastanza improprio però è vero anche questo per quanto mi riguarda sento come una formula che risponde abbastanza a quello che faccio nei confronti di un testo cioè la libertà assoluta non mi andrebbe mi farebbe svolazzare dentro il palcoscenico un po' a caso mentre invece un testo mi dà quella forma di necessità all'interno della quale realizzo la mia libertà e quindi il testo in qualche modo una sorta di terreno sul quale poi nasce la scrittura reale del teatro che è la scrittura complessiva cioè la scrittura scenica che è formata da un sistema di segni estremamente complesso è formata appunto da tanti livelli di segni fino a elaborare una così detto con la famosa formuletta di Barth che è sempre comoda in questi casi cioè fino a elaborare una sorta di polifonia di segni all'interno della quale appunto i livelli di segno sono molti e stanno tra di loro in un rapporto di stragnamento reciproco di dialettica reciproca eccetera eccetera dunque come vediamo segnali molto forti il testo il regista il regista del miurgo il regista ermeneuta è probabilmente il sospetto anche questo per un futuro dibattito che la regia questa regia ermeneutica questa regia critica italiana che ha costituito una stagione così importante nella storia del nostro teatro sia stato un argine molto forte a quelle che sono le dissociazioni dell'avanguardia e non c'è solo un primo castri agitato fra Artaud Bresch e via dicendo e un secondo castri ho visto Madame de Sade certo un ripide che era un po' più strutturato Hegel diceva che invecchiando il diavolo si fa fratte ma c'è un problema forse più grande ancora la regia in Italia e non è una valutazione di carattere morale e una constatazione di ordine storico è stato l'argine probabilmente a quelle che erano le grandi dissociazioni che venivano dall'avanguardia e un'avanguardia come il futurismo che poi ha nutrito anche tutta la linea delle cantine romane Carmelo Bene e via dicendo che è stata forse quella più radicale più distruttiva alla fine di tutte le avanguardie bene questo magari sarà oggetto di discussione e invito qui il professor Martinego Alberto Martinego prego il professor Martinego insegna estetica all'università di Torino è stato all'università di Milano alla scuola normale superiore è un esperto ecco lui di ermeneutica di decostruzione ha studiato in particolare anche negli scritti di Heidegger la tradizione heideggeriana in particolare e si è molto occupato di visual culture e quindi di quelle che sono immagini le iconiche la cultura visuale e vi parlerà quindi del sospetto in cast in qualche modo mi sembra la persona più titolata per darci uno sguardo alternativo rispetto alle cose banali che si possono dire su questo tavolo prego professore si sente sì professore grazie sono molto onorato di sedere a questo tavolo con lei e ringrazio naturalmente la professoressa Mazzocchi e tutte le persone che con lei hanno organizzato questa questa iniziativa sono onorato di parteciparvi lei in apertura ha parlato di un ritorno a casa io questo pomeriggio sono fuori casa e un modo per mettere le mani avanti naturalmente io sono un amante dilettante di cast sono uno studioso di teatro nella vita faccio umilmente il ricercatore di filosofia e conosco cast appunto da spettatore però con Federica Mazzocchi abbiamo ritenuto che fosse opportuno provare a dire qualche parola spero non troppo banale sullo sfondo nel quale si stagliano queste considerazioni sul sospetto che abbiamo sentito nel contributo di poco fa io ho messo un cronometro in modo da non parlare più di 25 minuti ma forse anche qualcosa di meno e parto con una citazione che non è di Castri ma vi svelo dopo di chi si tratta il filosofo contemporaneo incontra Freud nello stesso campo di interessi di Nietzsche e Marx tutte e tre stanno davanti a lui come i protagonisti del sospetto i penetratori degli infingimenti nasce con loro un problema nuovo quello della menzogna della coscienza e della coscienza come menzogna è un problema che non possiamo permetterci di considerare come uno fra i tanti perché è quello che è messo in discussione in maniera globale e radicale perché è quello che ha messo in discussione in maniera radicale e globale ciò che appare noi come il campo il fondamento l'origine stessa di ogni possibilità di significazione cioè la coscienza salto qualche riga e vado verso la fine ma questi tre maestri del sospetto non sono tre maestri di scetticismo certamente sono tre grandi virgolette distruttori e tuttavia anche questo non deve farci sentire perduti la distruzione dice Heidegger è un momento di una fondazione del tutto nuova ora tutte e tre liberano l'orizzonte per una parola più autentica per un nuovo regno della verità non soltanto tramite una critica virgolette distruttrice ma anche con l'invenzione di un'arte di interpretare a partire da loro la comprensione è ermeneutica cercare il senso ormai non significa più sillabare la coscienza del senso ma decifrare le sue espressioni molti avranno riconosciuto in queste righe Paul Ricoeur che è un filosofo contemporaneo che ha attraversato tutta la vicenda culturale intellettuale del novecento ed è scomparso nel 2005 e queste righe sono tratte da una raccolta di saggi pubblicata nel 1969 con il titolo Il conflitto delle interpretazioni e già il titolo come dire risuona molto uno dei cuori che è credo interessante importante provare a mettere in campo quando le mie discipline si confrontano con la letteratura con il teatro o con il mondo delle arti nel complesso insomma Il conflitto delle interpretazioni Il conflitto delle ermeneutiche per Paul Ricoeur dice il contesto nel quale ci si trova nella seconda metà del novecento e credo che questa analisi sia in larga parte ancora valida oggi almeno lo è per la filosofia ci si trova in una specie di campo quello che ci si abituò a chiamare il campo semiotico è in realtà un campo fortemente conflittuale un campo attraversato da linee che sono divergenti da una parte le critiche demistificanti e dall'altra le critiche che Paul Ricoeur chiama amplificanti nella prima direzione le critiche demistificanti sono appunto le critiche del sospetto ma dico una parola sulle critiche amplificanti sulle interpretazioni amplificanti prima di concentrarmi invece sul sospetto le interpretazioni amplificanti sono quelle che per esempio per Paul Ricoeur sono esemplificate dall'ermeneutica biblica cioè dall'idea di partire da testi molto stratificati prendendo tuttavia partito per l'idea che tali testi pur nella loro stratificazione anzi grazie alla loro stratificazione siano testi multiformemente parlanti che non hanno un solo significato ma che per così dire all'occhio di chi prova ad interpretarli è come se esplodessero di tanti frammenti ognuno dei quali come una specie di specchio che si infrantuma ma anzi che portare sfortuna fa la fortuna di chi lo interpreta erano questi frammenti ciascuno dei quali ripete per prospettiva propria una pluralità di voci o di volti qual è invece il campo delle interpretazioni del sospetto delle critiche del sospetto beh è appunto quello disegnato dai tre grandi maestri del sospetto e abbiamo tutte le ragioni per ricordare che anche Castri aveva avesse presente intanto in questo intervento che abbiamo ascoltato in forma ridotta è disponibile nella sua interezza un testo in cui parla di materialismo quindi parla di Marx parla di Freud non nomina direi nemmeno indirettamente se non l'ho letto male non nomina il terzo il terzo autore che è Friedrich Nietzsche ma è come se Nietzsche fosse un po' ovunque sotto questa sotto questa prospettiva in che senso maestri del sospetto beh dico cose che forse per molti e molti di voi sono scontate ma è giusto ricordarle beh Freud è maestro che insegna a sospettare del primato del conscio dietro al primato del conscio a scavare si incontra l'inconscio che sebbene in uno dei precetti del suo pensiero vada portato verso il conscio in realtà continua a fungere come una sorta di sfondo continuamente significante è uno sfondo che continua a produrre senso anche quando appunto secondo questo precetto freudiano anche quando si provi a portarlo integralmente ad emersione c'è in realtà come nella metafora banale dell'iceberg c'è in realtà un sotto che continua a lavorare a produrre ora problemi ora fortunate coincidenze e Marx c'è poco da argomentare in che senso egli sia il maestro del sospetto dietro al soggetto dietro all'idea che il soggetto sia motore della storia c'è in realtà c'è una verità più profonda che è quella per la quale la storia in realtà è mossa materialisticamente è mossa dalle forze economiche e Friedrich Nietzsche beh Friedrich Nietzsche in qualche modo per Ricer che è un filosofo Nietzsche sarebbe il vertice dei tre maestri del sospetto e colui che mette in dubbio l'esistenza la possibilità la possibilità stessa della verità ecco sotto questo profilo però è interessante provare a prendere come dire sul serio l'impostazione ermeneutica di Paul Ricer proprio in questo abbinamento tra distruzione e quella che io in qualche occasione ho chiamato ricostruzione o appunto amplificazione dei sensi perché mi pare che sia un po' questa prospettiva che è una prospettiva solo apparentemente dialettica e questa prospettiva di tensione tra la distruzione e la ricostruzione mi pare una modalità alla quale si possono riportare molte scritture del secondo novecento molte scritture mi riferisco solo parzialmente alla filosofia mi riferisco soprattutto alla letteratura al teatro e in questo mi pare che ci siano interessanti prospettive che illuminano che possono illuminare lo stesso Massimo Castri insomma accoppiare la demistificazione e l'amplificazione pone sostanzialmente sul campo dei segni l'esistenza la necessità di riportare i segni ai loro fattori elementari cioè prendere un distanziamento critico da ciò che appare attraverso i segni ma questo distanziamento critico non può mai essere agli occhi del modo in cui Riccaire interpreta i tre maestri del sospetto questo distanziamento critico non può mai essere esclusivamente distruttivo non può mai essere semplicemente una dispersione una disseminazione dei significati qui c'è nascosto un altro grande intellettuale francese dietro la parola disseminazione c'è nascosto un altro grande intellettuale francese Jacques Derrida che ha vissuto la propria avventura filosofica in parallelo a Riccaire ma in realtà non c'è mai stato un incontro davvero proficuo tra i due allora dietro all'idea che il distanziamento critico non sia sufficiente c'è appunto il presupposto forte da parte di Riccaire per il quale una volta acquisito il distanziamento critico nei confronti di ciò che è tramandato il tramandato possa essere si possa continuare a far parlare il tramandato proprio proprio attraverso il distanziamento critico il tramandato può tornare a parlare ma nel titolo della mia relazione c'è anche il richiamo all'identità narrativa perché tutto questo discorso di sfondo può contenere qualche elemento di interesse forse ma potrebbe essere considerato molto sommato un po' astratto laddove non ci sforzassimo di individuare qualche campo di applicazione e proprio il tema dell'identità narrativa mi pare che possa rappresentare un felice connubio tra le prospettive della filosofia ermeneutica in particolare dell'ermeneutica francese da una parte e la letteratura e il teatro dall'altra come funzionano le cose sotto questo profilo in Paul Ricera beh diciamo l'accoppiamento l'ambiguità tra la critica dei mistificanti e le letture amplificanti si applica nella prospettiva di Paul Ricera a tutte le grandi concettualità tutte le grandi costellazioni concettuali della tradizione del pensiero occidentale tra di esse una delle prime è la nozione è la nozione di soggetto una nozione che Paul Ricera ritiene dopo i tre maestri del sospetto di un essere più sostenibile nella sua dimensione sostanziale e tuttavia dice Ricera di fronte alla tentazione di fare piazza pulita del soggetto pensate a certi modi di prendere un po' alla lettera Friedrich Nietzsche e la morte del soggetto penso a un autore torinese che a molti di noi è chiaro come Gianni Battimo che ha scritto Il soggetto e la maschera proprio negli anni 60 insomma far piazza pulita del soggetto decostruire la soggettività e ridurla ad una pluralità di pulsioni Freud di forze economiche Marx o una sorta di gioco di specchi Nietzsche oppure questo non è in fin dei conti un modo per non è forse un modo per rendere giustizia della pluralità e della ricchezza di significati della soggettività che nonostante la critica demistificante sembrano essere significati più resistenti ecco nel percorso intellettuale e filosofico di Paul Ricoeur chiarita questa dimensione della doppia ermeneutica demistificante e amplificante emerge via via l'esigenza di riconsiderare il modo in cui si pensa la nozione di soggetto la si pensa sia come dire nell'attualità nel contesto degli individui che noi siamo sia i soggetti di cui parlano i testi dunque i soggetti di cui parlano i testi della storiografia ma anche i soggetti di cui parla la narrativa o di cui parla il teatro ecco la nozione forte l'idea forte che Paul Ricoeur lascia in questo dialogo che gli inizia a compiere negli anni 80 in una trilogia importante che nomino che è tempo e racconto ecco in tempo e racconto 1983-85 Paul Ricoeur inizia ad esplorare l'idea che a dispetto del fatto che le filosofie ma anche la cultura secondo novecentesca quando dico filosofie e cultura in termini di fianco all'altro intendo dire che ovviamente ci sono filosofie che travalicano i confini di quelle specifiche esperienze penso allo strutturalismo che è evidentemente uno dei protagonisti quando si affrontano queste riflessioni ecco a fronte del fatto che ci sono filosofie o esperienze culturali che hanno provato a decostruire e a sbarazzarsi della nozione di soggettività Paul Ricoeur va a cercare proprio nei testi della narrativa così come nei testi storici una modalità più resistente di considerare la soggettività spazzato il campo tolta dal campo la nozione di soggettività sostanziale la nozione di soggettività come ciò che rimane invariabile attraverso gli accidenti si fa strada un'idea di soggettività narrata cioè noi siamo questa è un'esperienza che come dire messa in questi termini fa un po' ridere pare banale ma insomma per lo più quando qualcuno ci domanda chi siamo noi non decliniamo il nostro codice fiscale o non decliniamo il nostro luogo di nascita o di residenza per lo più certo capita anche di doverlo fare ma per lo più raccontiamo da dove veniamo in quali scuole ci siamo formati quali sono gli insegnanti i docenti e le docenti che hanno forgiato la nostra prospettiva intellettuale quali sono i grandi maestri con i quali abbiamo lavorato ecco l'idea è insomma che noi non siamo un supporto invariabile attraverso gli accidenti ma siamo piuttosto ciò che i nostri racconti di noi stessi e ciò che i racconti altrui ci restituiscono in questo confronto tra il proprio e l'altrui si fa il fondamento narrativo di ciò che si ha ecco sotto questo profilo e mi invio a concludere sotto questo profilo il discorso che i discorsi che Massimo Castri fa rispetto alla come dire la testualità multilivello si potrebbe chiamare in molti modi ma ho qualche ragione qualche motivo per chiamarla testualità multilivello il discorso sulla testualità multilivello che spesso nella scrittura teatrale nella scrittura registica capita di fare ha proprio la filosofia questa contropartita questo controcampo cioè l'idea questo controcanto cioè l'idea che le le modalità con cui la soggettività si mette in scena nel testo teatrale o nella performance ma per altri aspetti anche nella narrativa è in realtà la soggettività è in realtà l'esempio ma in realtà l'esempio di come stanno le cose nella realtà cioè non si tratta di trasfigurare il reale che avrebbe una consistenza essenziale sostanziale trasfigurarlo nel testo o trasfigurarlo su un palco ma semmai è un gioco che funziona alla rovescia semmai il modo in cui noi ci comprendiamo il modo in cui noi ci presentiamo il modo in cui noi ci pensiamo o anche il modo in cui noi entriamo in conflitto con noi stessi noi stesse è una modalità che ha forse la propria rappresentazione più efficace proprio nella testualità narrativa o nella testualità teatrale questa idea dello scavo questa idea dello sfondamento questa idea dello svuotamento ma anche profondamente ed è qualcosa che davvero il teatro insegna alle filosofe e ai filosofi anche il tema della significazione il tema del distorcimento e del rialdicchimento delle figure il gioco delle maschere certo ma soprattutto l'idea che come dire che i personaggi attraversino vicende per le quali le loro presunzioni di essenza si distorcono cadono vittime della critica ma appunto al contempo risignificano quando ho iniziato a studiare qui davvero chiudo quando ho iniziato a occuparmi di questo tema mi è capitato di confrontarmi molto lungamente con colleghi di studiare assieme a colleghi e colleghi che lavorando nell'ambito della letteratura francese si occupavano per esempio delle multisignificazioni della medea ecco in questo dialogo che intrecciavamo ormai diversi anni fa la filosofia io imparavo molto dall'idea che i classici riprendessero vita ma riprendessero vita in una modalità profondamente distorta in una modalità profondamente reinterpretata e che però insomma sebbene il termine distorsione abbia una connotazione negativa ecco un po' la scommessa che l'ermineutica porta in un contesto come questo è forse quello di connotare invece in termini completamente positivi la distorsione anche perché dietro alla distorsione questa è un po' la parola ultima che probabilmente poi la riferirebbe dietro alla distorsione è difficile trovare un nucleo di essenza che si che si conserva ecco questo è il contributo che mi sento di portare spero non sia stato del tutto banale grazie allora ringrazio il professor Martina Engelberg che mi ha portato un'angolazione differente al discorso differente però in fondo non tanto devo dire perché attorno alla nozione di l'ermineutica poi mi sono segnato queste parole scavo sfondamento scavo sfondamento e il richiamo poi anche è molto forte a una eredità licciana in qualche modo allora ecco Castri ha scavato ha sfondato cioè mi viene in mente un libro di un archeologo importante Carandini storia della terra Carandini a un certo punto cosa parla cioè di che cosa parla parla di una archeologia che è come una psicanalisi molto ispirato alle tesi Matte Blanco e anche nel caso di Castri come anche ci ha illustrato a Longe siamo a a psicotesti a analisi di scavo e di sfondamento Nietzsche perché un po' perché gli autori di Castri di Ranvello Ibsen Mestre Imber sono largamente niciani o quantomeno sono interpretano di Nietzsche in senso dell'estremo nel teatro e quindi mi sembra anche che questo riferimento ci possa possa dare un contributo al nostro dibattito io peraltro sono sempre stato il sostenitore del dialogo fra studi teatrali e filosofia perché vengo dall'estetica anzi ho finito la mia carriera come professore di estetica e quindi mi ha fatto molto piacere questo contributo grazie a tutti e se lo procedete non so è lei la padronalità Isabella se si accomoda di chiare rimaneva come vuole farsi a cercare meglio c'è il video c'è il video che preferisce si si ho detto che le innamorate lo stesso vuol dire non so se lo vedi perché ne fai a voi allora dunque come un detective e stiamo girando adesso c'è il video e poi c'è Isabella si scusami ah giusto si allora abbiamo un video della messa a fuoco del personaggio il video credo che sia su due stettacoli di castri elettra ed effigenia poi ha delle due effigenia e poi io con la messa a fuoco messo io a fuoco il cielo sono io però mi scusi come se no no io perdono e quindi che succede adesso c'è il video c'è il video procediamo col video grazie padre tu giaci nel lato scannato a meno nella tua moglie dai ci sto, ti invoco su terra a panni, così ogni giorno mi abbandono al dolore, mi raccerò le guance con le unghie, mi percuoto il capo perché sei morto, grazie a te sono del capo, come un cingli striduro lungo la corrente del fiume, c'è una malfadre carissimo, prego il sudato delle reti così, madre infelice per te, mi lamento. Grazie a tutti. E' arrivato, è arrivato, è arrivato, uno che beve date, vabbeli voi, dice che ora le agire, vanno, avanti, una festa, di tre giorni, tutte le ragazze si preparano ad andare a tempio di Ero! Papà, 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 papà! Muffa! Io sono disperata! Non penso a feste o a gioielli, io non li guido i cori delle ragazze di Argo! Non volteggio nelle danze io! Le notti le passo a singhiozzare e i giorni li consumo nel mio tormento! Piangendo! Pupupupu! 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 Pupupupup! Pupupupup! colpita. E adesso lamento la vita perduta di mio fratello. Corrante e visioni hanno abitato la mia notte. E ora si ritegono le sue temere. E alla fine, per me è la fine. La casa dei padri in maceria. La mia stirpe si è estinta. Il destino mi depreda dell'unico fratello. Per lui, dal calice dei morti, io verso sul dorso della terra, lì va giunto. L'appe di giovelli che montava. D'oggi termino di pazza. Capatita delle furne a. Doni un deputino ai deputati. Ma quante volte io tesi le braccia verso le sue ginocchia. Ma quante volte mi aggrappai da lui? Gli dicevo, padre, padre che nozzorrente, tu celebri per me. Tu mi uccidi. E mia madre e le donne greche cantano di Beneo. E che già musica in tutta la reggia. E io, io vengo assassinato a tutti. Sì. Sì. Cosa mi è destinato? Era Achille, figlio di Beneo, ai re dei morti. Su un lussuoso cocchio. Mi ha importato a nozze di sangue, a tradimento. E io guardavo di sotto il velo leggero. Non strinsi nemmeno al seno il fratellino, che ora non è più. Non posti nemmeno le labbra alla sorella per pudori, perché stavo per entrare nella casa di Beneo. Rimandai fuori gli abbracciati a dopo. Quando sarei rientrato in armi. un pochino. Il povero resto, se davvero si smorti. Capricci della Dea. Se un individuo si è macchiato di sangue umano, si ha toccato una perpera, un cadavere, lo ritiene impuro, gli frecchi degli altari, lei si compiace di sacrifici umani. Ma davvero la donna, la sposa di Zeus, ha generato una creatura così incapazza di capire. Io non ci credo al banchetto che tanto l'avremmo offerto ai Celetion, alla carne di un bambino, da essi mangiata con piacere. Io credo che i mortoni, i mortali assassini attribuiscono agli dei le proprie infamie, gli dei. Io non li ritengo affatto malvagi. Uff 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 Sì, Sì, Sì. Paraclone, paraclone. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.